Ciao Smarties, spero si senta, fatemi sapere perché vi voglio ringraziare in una live estemporanea un po' sorpresa. Chi non credevo, aspettate, fatemi sapere se si sente l'audio, spero si senta l'audio e questa live è per ringraziarvi, per ringraziarvi in una live estemporanea un po' sorpresa, ma non mi aspettavo assolutamente tutta questa approvazione, questa stima che mi state in qualche maniera accordando dopo che ho condiviso l'ultimo risultato matematico raggiunto. Per me era veramente tanto importante e credo che questo sia passato come messaggio, mi rendo conto che vi ho trasmesso tutta la passione e l'impegno che ho infuso in questo lavoro. Mi ha addirittura drenato delle energie psichiche, tanto che per esempio poco fa ero in live sul sito Viola da Superspeed che mi ha invitato e ero completamente incapace di giocare a scacchi, proprio completamente. Questo perché mi sono completamente, scusate, il gioco di parole, la ripetizione, concentrato sulla matematica, su quei risultati, ma anche nel sonno non riesco a staccare il cervello, anche nel sonno continuo a produrre e a ritornarci. Grazie, grazie Isabella, Isabella, o Isabella, Isabella oggi. Quindi oggi voglio anche in questa live rispondere a delle domande estemporane, il cosiddetto fact time, F-A-Q time, un momento in cui potete chiedere quello che credete opportuno sui temi del canale. Davvero, vorrei anche che qualcuno mi dicesse se ha provato a leggere il paper, se lo ha scaricato, almeno l'ultimo, cosa ne pensa, se ci sono dubbi, domande, anche su quello mi piace, spero di confrontarmi. Comunque mi sono veramente stupito di quanto mi sia ritrovato a non vedere più nulla, a scacchi proprio ero completamente irriconoscibile, ma da un certo punto di vista è quasi buono, se non è una brutta malattia neurodegenerativa o peggio, ma è soltanto uno stress momentaneo, vuol dire che ho dato il 100% di quello che potevo esprimere in matematica e essendo concentrato su quello non riesco proprio a focalizzare il cervello su altre attività. Mi ritrovo anche addirittura in alcuni momenti un pochino con la testa quasi dei mancamenti, mi sono successi più di una volta questa settimana, almeno tre o quattro volte e credo che siano proprio dovuti al sovraccarico emotivo e nervoso per queste pubblicazioni, sia l'attesa ma anche il fatto di dover poi concentrarmi. E se volete mi è venuto anche in mente un modo per chiudere la dimostrazione del preperiodo, ma non ci scriverò un paper per motivi di salute, quindi se vi interessa posso anche poi dirvi come proverei a dimostrare la parte della velocità di congruenza che non è ancora stabilizzata. Ma è una cosa semplice, è anche di interesse minore, ma combinando le due cose magari si riesce a trovare la formula generale che dice quante cifre sono stabili. Tre metri sopra il cielo, Vincenzo, è la citazione di un'opera di Moccia, se non ricordo male, che però non ho letto e non è proprio il mio genere, ecco. Diciamo che mi è capitato a Ponte Milvio e qui a Roma di vedere tutti i lucchetti, però non so bene come sia raccontato nel libro quell'episodio e quindi immagino per tanti adolescenti quell'opera avrà segnato così un momento importante della propria crescita, anche gente più grande, ma io non ho mai letto tre metri sopra il cielo. L'hai scaricato Isabella Grande? Vabbè, lettura veloce se ci vuole tempo. Va bene, allora leggo dei commenti. A parte i saluti, saluto tutti. Mi chiede Shelldox quanto è il mio QI. Il mio QI, consideriamo la media dei vari test che ho fatto, e i primi tentativi, perché si possono anche ripetere. Parliamo di test a range, perché sono quelli che hanno un cutoff, scusate, un ceiling, un tetto massimo abbastanza alto per poter valutare anche punteggi un po' così inusuali rispetto a quelli classici standardizzati e supervisionati che in genere non arrivano molto in alto. E direi 163 deviazioni standard 15, quello è il valore più o meno medio. L'ultimo test che ho fatto, si è abbassato con l'ultima norma, sono rimasto un po' male, l'ho fatto un anno e mezzo fa circa, ora non mi ricordo esattamente, comunque. Poco più di un anno fa, ho preso 166,7, quindi pure sopra la media volendo, quindi lo possiamo dare per buono. Isabella? Ho mai scolpito l'occhetto con qualcuno? No, e non andrei mai a imbrattare Ponte Milvio con della ferraglia, quindi no. Non andrei a spargere, insomma, inquinamento, si può dire inquinamento, beh, insomma. Diciamo che non era esteticamente proprio bellissimo vedere tutti quei grappoli di ferro attaccati a un punto storico di Roma. Ciao Superspeed! Visto che comunque ero loggato, perché abbiamo chiacchierato con Superspeed, sono passato qui a fare due chiacchiere. Volevo anche dire che sono rimasto, anche qui su questo canale, diciamo piacevolmente sorpreso, è brutto essere sorpresi di una cosa che dovrebbe essere la norma, però, dalla community di Superspeed, perché l'ho trovata molto cordiale, affabile, gioviale e comprensiva, nonostante gli orrori che ho perpetrato in quelle indegne partite giocate sul suo canale. Quindi niente, non l'andate a guardare perché vi rovinate la vista, è bello avere una community così, era quella che ospicavo da tanto tempo, che c'è stato un periodo su questo canale e poi c'è stata la fase in cui, purtroppo, ho dato voce, forse anche troppo peso, a chi voleva solo mettere zizzani, a far arrabbiare e provocare. È una buona cosa. Anche il fatto di aver levato i dislike da parte di YouTube, secondo me è una buona mossa. Qualcuno può dire, ci leva rappresentanza. Io sono invece favorevole perché leva soprattutto la voglia a chi vuole attaccare un canale ingiustamente di spargere danno e fastidio, generando rancore. Commenti? Stormix! Ah, grande Stormix! Da un po' che non ci sentivamo, mi fa piacere. Mi vuoi bene anche tu? Grande. All'inizio mi ricordo che tu dicesti di essere stato uno di quelli critici nei miei confronti. Ancora complimenti per il Pepper, ma non avevi dubbi sin dall'inizio. Sì, è in assoluto la cosa migliore che abbia fatto nella mia vita e lì ho provato un crollo nervoso perché ho dato tutto e una volta raggiunto l'obiettivo c'è un calo fisiologico di tensione emotiva, anche bello grosso. Shelldox! È altissimo, test online, non sono più ferrato sull'argomento. I test range sono quelli soprattutto degli autori più famosi e accettati dalle più prestigiosi a chiuso site. Quindi andate a vedere magari nelle a chiuso site la lista di test accettati e ne scegliete uno con una buona norma, con un certo numero di persone che l'hanno fatto. Poi spesso ci si orienta anche, io non lo faccio, sui test quelli più inflazionati perché danno più punti, quindi questi appassionati test del cui ne provano tanti e magari dicono ah, vado a fare il test che mi garantisce la possibilità di entrare nelle a chiuso site più prestigiosi, è una cosa senza senso. I test li faccio per cultura personale, voglia di mettermi in gioco, e capire un po' il mio profilo, non per fare il record, se no farei due volte lo stesso test e farei tutti i test di un certo tipo, nel mio caso quegli abstract reasoning vado meglio in quelli, farei solo quelli due volte ognuno e alla fine ai 180 ci arrivo, ma che pro. Ho fatto il sigma test online qui su YouTube, manca l'ultimo item. Sono rimasti molto contenti, dice Superspeed, anche io grazie, comunque davvero. Ah, volevo fare anche complimenti al ragazzo con cui ho giocato, diciamo più che altro ero deluso da me stesso, molto, ecco. Imbarazzato più che deluso, però oggettivamente è forte, quindi in bocca al lupo e complimenti a lui. Per chi non l'avesse capito ci ho perso. Bimbo, ciao, mi ami, un po' eccessivo, però anche che io voglio bene la mia utenza. Stormix, grazie, ti sei ricreduto, è la cosa più bella, mi è piaciuto tantissimo nell'ultima live, quando è passato Sir Luigi Mastro Cotone, editor storico del canale, è passato, si è iscritto al canale per commentare dicendo riconosce la sconfitta, più che una sconfitta riconosce che forse mi ha attaccato ingiustamente quando ho prodotto un risultato non confutabile, non so, è stato un risultato di peso, dimostrato e rilevante, ma continua anche a leggere magari sui vari discussioni online cercate il mio nome, esce fuori Ripaccia Arlatano, Pagliaccio, mi è dispiaciuto che una persona che stimo e così che non mi conosceva abbia definito Pagliaccio, ma forse sulla base di quelle cose cerchi su Google Marco Ripaccia, Genio Pagliaccio, Pagliaccio, allora è un Pagliaccio perché lo dicono su Google, su Internet, ma è una valutazione molto superficiale e forse anche non tanto veritiera. Vincenzo mi dice ce l'hai ancora il dislike? No, qui non ci sono, non li vedo più i dislike ai miei video, devo andare nelle statistiche e vi dico anche che negli ultimi live e video ho il 99%, 97% di like, quindi assolutamente i dislike non ci sono, ci sono veramente uno, due, tre dislike massimo a video, con 60, 80, 100 like, è una buona cosa. esatto, esatto, no ma, cioè, quei risultati sono peer review, quindi c'è poco da fare, sono state revisioni da professori, da esperti dell'argomento che si sono valutati con la massima esperienza sull'argomento per un anno, quindi anche se un professore di matematica prendesse il paper, desse un occhiare a due ore, dicesse, questo è un ciarlatano, sulla base di cosa, il paper è stato revisionato da tuoi pari per sei mesi, un anno, è chiaro che come giudizio ha poco valore in ogni caso, poi bisogna dimostrare che ci sono delle cose che non vanno, il risultato già raggiunto che discende immediatamente da un risultato noto, degli errori insanabili nelle dimostrazioni, cioè, deve essere delle cose vere che si possono dimostrare, non delle opinioni. Andrea, sei contento per l'andamento del mio canale? Grazie, ma non tanto per le views, ma proprio così come soddisfazione personale questo canale l'ho aperto e l'ho mantenuto per condividere la mia vita, i miei pensieri, condividere qualcosa con gli altri, non per finalità di lucro o altro, tanto che per la maggior parte della sua vita è rimasto non monetizzato, addirittura tolsi per un anno la monetizzazione per protesta in generale contro il clima che si era creato su YouTube. Queste cose non ve le ho neanche mai raccontate, ma ecco. Cioè, magari chi pensa ah, quel video ha fatto due miei visualizzazioni chissà quanto ha guadagnato, quel video per la maggior parte della sua vita non è mai stato monetizzato o in generale, ma non è che è stato creato con quello scopo, quindi per dire, il canale è stato aperto per condividere esercizi di palestra e poi è diventato una valvola non solo di sfogo, ma proprio così di dialogo, spazio per chiacchierare. Sei comunque contro i dislike nascosti? Come opinione ci stai? Io vi parlo da persona che ha subito degli attacchi, non da magari fossi un semplice utente direi, mi fa piacere anche dare un giudizio su un video. Mi ricordo, io sono talmente vecchio, sono su YouTube da talmente tanto tempo che all'inizio YouTube aveva le stelline, il motto era Broadcast Yourself, YouTube Broadcast Yourself e tu potevi dare le stelline come su un noto sito di acquisti online, quindi potevi dare le recensioni ai video in sostanza. Tre stelle e mezzo, forse me lo guardo, cinque stelle, allora assolutamente quel video sarà un capolavoro, poi andiamo in moda le parrucche, insomma è un periodo in cui magari c'erano delle mode che oggi sono passate completamente. Grazie, grazie André. Jazz, non capisco, Isabella, i ponti con i catenacci sono anche qui in Germania, eh forse sono io che sono troppo vecchio, però no, non ricordo di aver chiuso i lucchetti, io i lucchetti li utilizzavo soltanto quando andavo in palestra per chiudere l'armadietto, però a parte quello non mi ricordo altri utilizzi, o quando ero ragazzo che avevo il motorino, vi parlo di quando dai 14, 15, 16 anni, che avevo la criptonite, cioè la catena per bloccare il motorino e basta, altri lucchetti non ne uso, sono un fan dei lucchetti, sono più tipo apriamo tutto alla volemose bene, poi, e vorrei dire nella grande stima, personalmente non ho mai messo un dislike a un video, semplicemente perché sì, infatti i dislike li ho messi pochissimi nella mia vita e l'ho anche quasi sempre detto quando li ho messi, magari i video che mi criticavano o cose così, perché se un video non mi piace non finisci esatto, esatto, infatti non capisco, mi piace non lo apro, lo chiudo subito, ciao Marco, hai letto il paper? Matteo hai letto il paper? sono emozionatissimo, ho letto il paper e devo dire che l'ho trovato molto interessante, grazie, l'unica cosa che non credo di aver capito è come definisci i risultati per la base 1, per il resto complimenti, ti rispondo volentierissimo, allora la base 1 è definita nello specifico nel primo paper, quello on the constant congruent speed of detration, allora qui il discorso, scusate un attimo la digressione ragazzi, però è una lata di tutti gli argomenti e questo mi interessa molto, allora la velocità di congruenza è il numero di nuove cifre che si aggiungono alla fine del numero che sono stabili per un incremento unitario dell'iperesponente della detrazione, quindi se io dico 1 alla detratto B sarà sempre congruo 1 modulo 10 alla n dove n è un valore qualsiasi, n è il numero di cifre, quindi 1 è sempre congruo a se stesso a qualsiasi potenza lo elevo, 1 alla quinta è uguale a 1, quindi qua come la posso vedere? La posso vedere come una stringa infinita di 0 con alla fine un 1 e se ragiono così la velocità di congruenza può essere un numero qualsiasi fra 0 e infinito che non è neanche un numero, quindi io come scelta scelgo di non considerare il cifre alla sinistra dico 1 è congruo a se stesso, quindi al primo passaggio per B uguale 1 la velocità di congruenza è 1, però a me interessa il valore costante della velocità di congruenza, quindi dal secondo passaggio in poi, cioè da quando io calcolo 1 alla 1 e lo devo confrontare con 1 alla 2 quante sono le cifre in comune? 1, ma quella era già la cifra in comune al passaggio precedente perché 1 alla 0 di tratto 0 è congruo a 1 di tratto 1 in modulo quello che vi pare, quindi questa è diciamo qua la velocità di congruenza 1, 1 è 1 e velocità di congruenza per qualsiasi B maggiore o uguale di 2 è 0 io assumo questa cosa è un po' come assumere che 0 fattoriale fa 1 in realtà non è che tu te lo hai inventato però è comunque una forzatura la puoi giustificare ma la giustifichi in virtù di quello che sarà e quindi non ci sono altre cifre quante sono le nuove cifre che si aggiungono passando da qua a qua se ne aggiungono 0 e questo è relativo al fatto che 1 è proprio una delle 15 soluzioni che si trovano risolvendo quell'equazione fondamentale y alla t uguale y con t maggiore o uguale 5 quindi y alla quinta uguale 5 diciamo y alla quinta uguale y nell'anello commutativo degli interi 10 adici avete come soluzione anche 1 1 è 1 però visto che sono numeri che si stendono all'infinito verso sinistra lo puoi scrivere così e in qualsiasi punto tagli quella sarebbe la velocità di congruenza e infinito non è un numero quindi per convenzione io definisco questa cosa e la motivo però in generale non è che dire che la velocità di congruenza di 1 sia un altro valore sia sbagliato poi però devi essere coerente nel resto quindi quindi in generale in generale non lo vuoi non lo vuoi dire in maniera univoca devi fare un'assunzione su dove vai a tagliare quali cifre consideri negli altri numeri non succede perché qualsiasi numero diverso da 1 quando vai a fare la detrazione avrà alla sinistra delle cifre che non convergono quindi tu riesci a vedere chiaramente qual è l'ultima cifra che converge e quel valore sarà sempre 1 e 1 solo commento ponti ok salisburgo c'è un ponte quella è una bella cosa dedicare un ponte ai lucchetti secondo me ci sta è molto meglio che trovare gli sparsi su opere storiche ponti magari con una veramente tradizione secolare hai messo il dislike Andrea a video che secondo te vanno giudicati negativamente per la community ma diciamo che se un video è veramente tanto tanto diseducativo e viola le norme della community si può segnalare proprio il video quindi in teoria è già uno strumento pesante magari il dislike è una via di mezzo Matteo mi dice allora vi ho inteso bene grazie in realtà devi fare mea colpa perché il primo paper lo hai letto velocemente no figurati figurati Matteo no ma la domanda mi fa piacere non è una domanda stupida considera che con il revisore nel secondo paper la maggior parte delle discussioni sono state proprio relative al discorso veloce di congruenza della base 1 e 0 perché specificalo in tutte le formule l'hai detto nell'altro paper ma qua lo devi ridire devi spiegarlo ma ha detto lui secondo lui è un po' come 0 fattoriale uguale 1 quindi quell'esempio l'ho preso dal revisore che è un esperto di dire dei numeri 5 su 5 come valutazione di competenza sull'argomento del paper e ve l'ho trasposto quindi non è la mia elucubrazione il 0 fattoriale è utile però di per sé insomma va argomentato mentre un'altra cosa interessante che ho notato è che si fa molta fatica da amatori a comprendere come si scrive una dimostrazione e si inserisce la dimostrazione in un paper perché anche una persona che ha frequentato magari la facoltà scientifica non per forza matematica la facoltà scientifica è stato abituato a studiare delle dimostrazioni però non a farle diciamo a farne molte magari qualche piccola cosa negli esami ma in generale non è che uno è abituato a dimostrare un risultato originale impiegando pagine allora che cosa avviene che si fa fatica magari per chi ha fatto matematica parlo di facoltà scientifica magari anche economia ho frequentato chimica biologia non lo so si fa fatica a entrare nell'ottica che per mostrare che un teorema un lemma quello che volete sia ben ben formato fate finta in un teorema io ho una frase iniziale per esempio la più semplice potrebbe essere definiamo delle variabili poi se è vera sta condizione allora abbiamo questo risultato quindi ci sarà una parte in cui definisco qualcosa e poi dico se è questo allora then if then che si può indicare in matematica con l'olimpica quindi c'è una proposizione c'è una premessa e una conseguenza ora quando vai a scrivere la dimostrazione nei casi generali potrebbe essere essere corretto indicare proof all'inizio quella che è proprio la premessa del teorema poi svolgere delle parti intermedie in cui con delle diciamo sostituzioni invocando altri risultati spesso precedenti riesco a semplificare il concetto poi svolgo dei calcoli che in generale si indicano con ENS e arriviamo probabilmente a quella che è l'applicazione di quel teorema per quel caso specifico una volta che l'abbiamo riformata bene a quel punto qui abbiamo qualcosa di molto vicino alla conseguenza quindi in realtà il primo e l'ultimo passaggio del teorema sono o direttamente l'ipotesi e la tesi oppure addirittura potrebbero essere qualcosa di vicinissimo perché magari ne consegue in maniera diretta con un solo passaggio quindi per esempio vorremmo dire che ne so qui abbiamo x quindi x per x più 1 uguale 0 e magari nel teorema vi dico che sta cosa x quadro più x uguale 0 è la conseguenza quello che è insomma quindi magari qui ho questa se dico questa allora non ho bisogno poi di rifare le moltiplicazioni e qui dico therefore abbiamo questa e quindi segue la tesi e poi metto questo simbolo alla fine questa cosa si fa molta fatica ad accettarla e magari si va a tentare di fare dimostrazioni grafiche cose del tipo una tabella faccio vedere che sulla diagonale della tabella ci sono quei valori là però in generale quella tabella come l'hai costruita magari quei valori ci sono fino a un certo punto allora ha più senso lavorare con dei metodi che sono canonizzati dimostrazioni si fanno in un certo modo per esempio nel paper io utilizzo molto quelle per induzione che hanno proprio una forma specifica che ti permettono di generalizzare un risultato all'infinito ma ci sono altre tecniche molto famosa la reduxio ad absurdum insomma dimostrazione per assurdo prendi negli ipotesi e allora ti viene il contrario della tesi sostanzialmente per spiegare un attimo dico se A è uguale a B allora facciamo finta che A sia diverso da B e faccio vedere che il risultato è esattamente in una contraddizione e allora deve essere vero l'opposto grande da più di cinque anni la bellezza è infinita onoratissimo onoratissimo abbiamo Riccardo dove è partita l'idea di indagare quell'argomento della detrazione questa è molto interessante non sei un esperto in materia ma vorresti sapere qualcosina in più su come abbiamo l'intuizione ora ti rispondo intanto dico a Mirko dove si può scaricare il paper nell'ultima live ho messo il link per scaricarvi entrambi gli ultimi due paper di matematica di teoria dei numeri farò lo stesso perché farò una live in cui presenterò il mio risultato di teoria dei grafi l'ultimo sono usciti insieme i paperi non ho presentato solo uno e quindi poi farò lo stesso per la teoria dei grafi comunque se li vuoi cercare manualmente basta che cerchi notes on number theory and discrete mathematics scritto così nn number theory nntdm volume 27 quarto numero perché trimestrale è l'ultimo da pagina 43 a pagina 61 vai sul sito e te lo scarichi tanto c'è anche indicato come ultimo appena uscito questo è il mio ultimo paper poi ti vorrebbe far comodo leggere prima quello precedente che stessa cosa volume 26 issue number 3 da pagina 245 a 260 allora mi chiede riccardo come è venuta l'idea l'idea mi è venuta perché fin da bambino infatti se uno ci pensa no i più grandi risultati ora senza scomodare wilds perché anche in quei casi è stato così ma senza scomodare mostri sacri ma fin da bambino mi ricordo che ero ero annoiato perché all'epoca non avevamo cellulari televisori strani avevamo sì televisori col tubo catodico ma ce n'era uno in famiglia e passavo molto tempo con mia mamma che è un negozio ma stavo in questo negozio ad annoiarmi ero piccolo perché magari dopo la scuola volevo stare con mamma allora stavo lì seduto come posso passare il tempo mi davo di mano una calcolatrice poi era affascinato a queste cose tecnologiche per l'epoca calcolatrice non quelle moderne che fanno i grafici fanno il caffè quelle normali che facevano le quattro operazioni forse forse la radice quadrata mettevo lì era affascinato alla moltiplicazione alla somma della moltiplicazione quindi mettevo prendevo un numero iniziavo a fare per per e calcolavo per per uguale 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 e aspettavo che si riempisse tutto lo schermo di essere errore avevo magari dieci cifre e prendevo i numeri più piccoli il due il tre il quattro e iniziavo a notare queste regolarità e fin da bambino è rimasto attratto poi verso i venti non mi so dire venticinque anni notate il genere forse meno ho scritto ho scritto l'articolo della biblioteca di Babbele che trovate su su matematicamente punto it e in quell'articolo faccio la stessa cosa però calcolando con delle regole delle potenze le cifre finali di questi numeri quindi gioco le potenze scrivendo quell'articolo mi sono messo così a giochicchiare con Wolfram che avevo appena scoperto merda se Wolfram un altro programma e ho notato sta cosa che le ultime cifre però seguivano non solo per le basi quelle banali che consideravo magari le basi che terminano per 5 eccetera e ho questa regolarità ho detto ma magari è una cosa strana quindi ho fatto un po' di prove e ci ho iniziato a pensare perché questa cosa poi mi tormentava è successo nel 2010 più o meno nel 2011 ho pubblicato il mio libro in cui sintetizzavo queste regole ci ho messo quasi un anno per scrivere questo libro però è un libro primordiale cioè se voi lo andate a leggere vedrete che ci sono delle buone idee però è in italiano non ero in grado di scrivere un paper di matematica allora e l'anno dopo in realtà sì in quell'anno lì poi ho anche scritto il mio primo paper di matematica e l'ho pubblicato sempre su Noteson Number Theory però era qualcosa sempre sulla regolarità dei numeri primi ma semplice non era nulla di molto molto complesso dal punto di vista dei formalismi però ho iniziato avvicinarmi alla matematica scoprendo questa cosa e da lì mi sono accorto che c'era un mondo tanto che in questo libro io parlo di teoria del caos e frattali per quel po' che ne sapevo e il bello è che anni dopo mi sembra nel 2013 comunque insomma successivamente il più grande esperto di detrazione al mondo si chiama Daniel mi sembra fosse sua la frase ho comunque un esperto di detrazione ora non ricordo esattamente l'autore potrei sbagliare ha cognato la frase del tipo tutte le varie proprietà che si acquisiscono per ogni diciamo questa scala di operazioni partendo dalla somma e andando avanti fino alla detrazione stando per la moltiplicazione e la potenza ogni operatore ha qualcosa di speciale da qualcosa e non mi ricordo che cosa viene associato alle operazioni precedenti ma la detrazione che cosa genera genera il caos fate finta la moltiplicazione che cosa genera genera i razionali quindi quel rapporto inverso la potenza genera qualche altra cosa la detrazione genera il caos poi se volete vi cerco la frase perché è molto bella effettivamente trovi una regolarità nella confusione più totale e ricorda molto l'ipotesi di Riemann quello che ho fatto poi vi dico anche perché questa cosa non l'ho detta nelle altre live vediamo se qualcuno che ha letto il paper ci arriva perché c'è una fortissima un fortissimo collegamento anzi due fra la mia formula della velocità di congruenza e la detrazione e l'ipotesi di Riemann almeno come associazione leggo dei commenti e vediamo il primo che scopre il collegamento poi ve lo dico quelle per induzioni sono le tue preferite Andrea in realtà sono un po' le più facili dal punto di vista estetico magari non sono bellissime le mie dimostrazioni però sono efficaci e vorrei di Inel si sa qualcosa sulla prima persona che ha pensato alla dimostrazione per induzione non ve lo so dire ma forse parliamo già dei greci cioè parliamo di la dimostrazione famosa dell'infida ai numeri primi di Euglide è per assurdo però immagino saremo lì poi formalizzate non so chi è stato la persona o il periodo storico in cui sono state veramente formalizzate queste tecniche l'induzione deriva dagli assiomi di Peano ok grazie Matteo sì quelle per assurdo forse sono le più belle ma danno meno informazioni cioè avere una dimostrazione per assurdo dell'ipotesi di Riemann sarebbe un risultato spaventoso però una costruttiva farebbe molti molti più danni perché permetterebbe magari di invertire la formula una volta che sai come si distribuiscono gli zeri sulla cammino critico retta di ascissa reale un mezzo e allora la semiretta è allora lì sì che puoi prevedere i numeri primi e quindi forse invertendo puoi arrivare a trovare un metodo efficiente inaspettatamente efficiente per fattorizzare i numeri e gli algoritmi che si utilizzano oggi una parte di quegli algoritmi si basa proprio sulla famiglia si basa proprio sul prodotto dei due numeri primi che creano i grossi semiprimi e questa cosa creerebbe problemi anche a livello di sicurezza a meno che non si voglia cambiare protocollo passando a sistemi di cifratura a chiave pubblica basati sulle curve ellittiche per dire e si ripropone il problema il famoso algoritmo algoritmo quello che sviluppò negli anni 70 e il nome sono tre lettere un acronimo dei nomi di tre ricercatori che lo hanno scoperto RSA è proprio dovuto a questa idea di sfruttare la funzione di Eulero e utilizzare l'identità di Eulero e utilizzare il prodotto dei numeri primi come funzione difficile da invertire è facile andare in una direzione difficile andare nell'altra alcuni squadri di pensiero mi dice Matteo rifiutano le dimostrazioni per assurdo eh lo so però io non sono di quelli stanno addirittura cercando di schermo matematico senza dire le dimostrazioni è interessante è bello il dibattito è bella anche la varietà di punti di vista quando si parla di scienza secondo me è una cosa che arricchisce non toglie buonasera grazie Axi bel risultato sicuramente il mio più importante Alessio l'omonimo vincitore della medaglia Fils Figalli ma non è Figalli è Gagliardi mi dice buonasera Marco se è entrato ora mi piacerebbe capire il titolo vi ho ringraziato per l'affetto e la stima che mi avete diciamo accordato e poi c'è una fact time quindi diciamo question time ma in generale è una chiacchierata non è question time su un paper non è una conferenza giocare a videogiochi suonare o dipingere è più divertente scrivere matematica sono assolutamente d'accordo giocare a scacchi eccetera non ti dà la stessa emozione non c'è la stessa creatività non puoi esprimere veramente te stesso fare matematica è qualcosa di vicinissimo veramente all'arte infatti si parla di talento matematico secondo Krusersky cioè si parla proprio di un'abilità innata nella matematica che poi si sviluppa e si coltiva con lo studio però la matematica quando la fai ti permette di immergerti completamente non è che poi finisce la partita lavori su mesi anni e l'emozione che ti può dare è quella di aver trovato delle regole perfette perché è un linguaggio perfetto che è collegato col mondo delle idee un po' con l'iperuraneo di Platone poi magari dopo cent'anni si scopre che quelle cose sono utili per la fisica magari sviluppi un tipo di matematica e dici ma che cosa ci faccio poi si scopre che è utile in fisica quantistica che ti può tornare utile per descrivere dei fenomeni reali poi vabbè ci sono quegli articoli non ho letto un altro lasciamo stare ho fatto un video all'epoca un'altra live in cui criticavo un articolo un po' sensazionalista ma quest'altro è una cosa del tipo scoperto buco nero che spelle materia ma ovviamente non è il buco nero è il campo elettromagnetico del buco nero che spara fuori un raggio lunghissimo di materia energia quello che è insomma sostanzialmente però oltre all'orizzonte degli eventi e nel cerchio di accrescimento quello che è che si generano questi oggetti non è il buco nero che spara fuori oggetti da come si leggerebbe nel titolo quindi anche lì magari si fa un risultato e poi mettiamo un risultato interessante e poi viene viene stravolto da da articoli un po' superficiali magari di grande rilevanza dal punto di vista proprio dell'impatto sull'opinione pubblica buonasera ok volevi ringraziarmi anche tu perché vedendo i miei video ti hai tornato a voglia di studiare onoratissimo un complimento bellissimo quello che hai fatto fatti pagare Alessandro da chi non è che faccio ricerca perché qualcuno mi sovvenziona o mi commissiona è un po' da un certo punto di vista sei più libero da un altro è più difficile sopravvivere facendo soltanto però io sto dedicando il 90% delle mie energie e del mio tempo a fare qualcosa per cui non vengo pagato neanche un centesimo cioè l'unico fonte di diregito che mi può collegare la matematica può essere il fatto che ne parlo in una live su youtube e guadagno 2 euro oppure che idealmente qualcuno mi possa chiedere una consulenza di personal branding perché vuole ripercorrere le mie orme ma non mi sta capitando ne possono capitare due l'anno quindi capite che a questo punto vi avvino in mente vi voglio fare due regali due regali e poi vi dico la connessione fra la veloce di congruenza di trazione e l'ipotesi di Riemann primo regalo ne ho già chiesto il permesso nell'ultima live per abbonati farò come il regalo di Natale e soprattutto per festeggiare le pubblicazioni farò la prossima live per abbonati non aperta al Tiger 2 e basta Tiger 2 in su ma a tutti gli abbonati al canale questo significa che anche con meno di 2 euro si può oltre ai vantaggi normali quindi avere le emoji il logo a fianco all'icona del canale quindi essere riconoscibili sia anche come vantaggio quello di avere una live gratuita per soli abbonati e ho chiesto il permesso sono anzi d'accordo entusiasti gli altri sostenitori e quindi farò così farò una live speciale per ringraziarvi di almeno un'ora quindi sono sempre live tecnica a tutti gli abbonati al canale non vi so dire quando probabilmente sarà il 4 gennaio comunque quindi l'abbonamento dura un mese già scrivendosi oggi è attivo il 4 gennaio perché è il primo martedì del mese faccio sempre la live alle 19 questa è la prima cosa poi volevo fare la seconda ma prima leggo dei commenti è divertente scrivere matematica che giocare sì assolutamente sì che giocare ai videogiochi assolutamente sì studi fisica Andrea complimenti ci ho provato anch'io e era pesantissima anche per altri motivi esterni allo studio grande l'avi l'avi mi dice ciao Marco complimenti oggi tutti complimenti che bello mi segui da anni dai tempi in cui facevi i primi video con indovinelli e test di intelligenza onoratissima è bellissimo sapere che ci sono persone che mi hanno seguito per tanto tempo hanno seguito tutta la genesi l'evoluzione il perigliato e travagliato percorso che mi ha condotto a questo impire o dei risultati personali la bellezza dai Marco ora che ha raggiunto questo fantastico obiettivo di tocca risolvere poi si rimanda no no prossimo paper l'abbiamo già in programma l'ho già abbozzato lo voglio iscrivere con voi abbonati e in generale con gli iscritti al canale quindi condividerò anche qui sul canale il lavoro in itinere ma sarà un lavoro di teoria dei grafi bidimensionale non banale ma con dei risultati che abbiamo già e poi dobbiamo sistemare meglio cioè il teorema di ripabaglioni e altro quindi fatto con gli iscritti proprio del canale e saranno i coautori del canale ho citati citati nel paper tra gli autori o nei ringraziamenti insomma voi sarete voi chiunque parteciperà anzi se qualcuno poi mi vuole aiutare nel format finale sarà anche lui incluso tra i coautori ogni tanto mi dicevo Rediner pensi possano essere contributi in ambito matematico soprattutto ma anche non che per un motivo o per l'altro sono stati persi assolutamente anzi sarà la norma questa ah stai pensando a domestica e bruciare gli appunti Riemann si è famosa sta storia i matematici sono disperati per 150 anni grande sei un grande onoratissimo onoratissimo il mio paper lo trovi nell'ultimo video l'ultima live aprendo la descrizione sono due link fonti bibliografiche due link sono due paper non sono virus tranquilli e se poi invece li volete cercare voi il mio ultimo paper cercate notice on number theory in discrete mathematics nntdm volume 27 issue number 4 comunque andate sul sito trovate tutti quanti i volumi cliccate sul 27 ci sono divisi in 4 gruppi voi andate nell'ultimo numero 4 l'ultimo trimestre dell'anno 2021 ci cliccate vi escono i paper che sono in questo caso 26 mi sembra mai raggiunto questo record perché le submission sono bloccate forse ne hanno troppi 26 paper voi andate sul mio che mi sembra il quarto il quinto una cosa così e da pagina 43 a 61 cioè il pdf è scaricabile lo potete anche salvare stampare incorniciare commento due volte Axi mi capi ormai l'età come definiresti un ragazzo che ha 16 anni e 6 brevetti a suo nome Ale è un grande un piccolo come mondiamo non lo so piccolo Tesla hai l'icona di Tesla forse Tesla non era però così precoce dal punto di vista della produzione era un studente eccellente ma no non saprei perché non ho 6 brevetti comunque una mente stra creativa sicuramente un genio possiamo definirlo un genio sì un genio perché dare un contributo originale 6 brevetti immagino qualche cosa di geniale in mezzo ci sarà giovane genio Isabella la matematica ti aiuta a tenere sotto controllo l'ansia a me la crea però quale parte della matematica pensi abbia più incompletezza secondo me la maggior parte dei problemi aperti sono in teoria dei grafi ma proprio per la struttura e in generale in teoria dei numeri abbiamo tantissimi problemi semplici da poter dire ma esprimere ma non riusciamo proprio a venire a capo e in teoria dei numeri sono proprio i problemi quelli più forse più gettonati e molti di essi sono anche semplici sia da capire sia da descrivere eppure c'è più creatività sicuramente uno degli ambiti più creativi potrebbe essere la teoria dei numeri sia perché ti puoi creare tanti problemi anche a livello di amatore dalla matematica ricreativa a quella di alto livello però poi nei metodi con cui li puoi affrontare i collegamenti che puoi fare a me piace molto in analisi non sono ferrato so che è un altro campo molto tosto è un campo bellissimo della matematica ma di cui so pochissimo è l'algebra in algebra sono stati fatti tantissimi diciamo ci sono pochi problemi aperti tra quelli importanti perché abbiamo tantissimi risultati acquisiti però è affascinante come strumento magari è bello possederlo e padroneggiarlo come strumento più che risolvere solo problemi in quell'ambito perché è più difficile c'è meno spazio di manovra hai 137 di cui Leo ma ti senti comunque uno stupido Dunning-Kruger effect soltanto riferito alle capacità e non alle conoscenze acquisite quindi no no quando ti sento ah quando mi senti immaginavo tipo in spagnolo lo sento cioè mi dispiace ok buonasera no infatti non ha senso Gabriele i più grandi si sono sentiti inadeguati poi se pensate un attimo che ne so Van Gogh quante opere ha venduto in vita ma oggi Gabriele sta iniziando una magistrale in biochimica complimenti spero leggerà il mio peper allora hai paura di scordarmi ciò che studierai in questi anni cosa consigli qualcosa ci scorderemo per forza non è che possiamo tenere a memoria tutto quello che sappiamo abbiamo memoria a breve termine che in parte viene cancellata e sopra scritta però se ti dedichi con passione a un ambito specifico di quello che studi magari un esame approfondisci quella branca lì quello sarà l'importante il resto delle competenze che hai acquisito le perderai temporaneamente ma quando ti serviranno potrai riacquisirle quindi ci metterai molto poco a riacquisirle quella secondo me è vera conoscenza ti puoi guardare la mia playlist sulla chiusura matematica la teoria della chiusura matematica spiega proprio questo cioè che dal mio punto di vista ciò che conosciamo e sappiamo non è solo quello che teniamo nella memoria a breve termine ma tutto ciò a cui possiamo accedere rapidamente capendolo e facendolo nostro in un tempo ragionevole una volta che l'abbiamo già già sbobbinato già sviscerato ti calma molto Isabella complimenti a te allora ti invidio a volte mi calma a volte mi stressa mi calma quando cerco una soluzione e la trovo mi stressa quando devo scriverla in un paper e devo rispettare i formalismi sono gli esami che affronti da vecchio alla mia età gli esami sono quelli non sono esami che si svolgono in un giorno o in poche ore ma si svolgono in mesi mesi e mesi poi in virtù elaborato aspetti mesi mesi di avere il voto il voto vorrebbe essere ti rimando alla prossima revisione Gabriele di praticare ok seconda proposta non è proprio un regalo mi è venuta in mente visto che mi state dando tanto credito e tanto sostegno per la matematica e molti mi hanno scritto che li sto ispirando magari posso posso fare per un periodo non so per quanto posso lanciare la proposta di mettere un costo delle eventuali consulenze di personal branding però solo sulla matematica quindi fatte da persone che vogliono in qualche maniera arrivare a un risultato che pensano di possedere in forma embrionale cioè dovete avere un risultato proprio vostro oppure un piano del tipo voglio aprirmi un canale di matematica o queste competenze però soprattutto agli appassionati che pensano di avere una soluzione molto spesso a me è capitato di non sapere cosa farci cioè sarà giusta o no ho paura che me la me la prenda qualcun altro se le invio tutte queste paranoie tipiche da persona che si approccia a questo ambiente per la prima volta e molti di questi risultati non sono scritti in forma matematicamente accettabile quindi magari non è l'idea che non è buona è proprio il fatto che se inviaste quelle cose a un paper a un journal sotto forma di paper non verrebbero mai accettate perché è proprio lontano da loro da ciò che possono processare e magari per fare quella cosa lì mi posso inventare qualcosa per venirvi incontro anche solo fare che ne so un'ora di consulenza preliminare a un prezzo bassissimo ma soltanto per vedere se quella cosa ha un senso o no perché magari metto nei panni il me stesso del passato magari che ne so da laureando eccetera non hai un reddito niente però hai tante idee il momento migliore che si riesce a indirizzare verso un obiettivo ti può portare a cambiarti non a cambiarti la vita ma ciò che rimarrà di te cioè io ho lasciato qualcosa alla storia nel mio piccolo e ha dato un senso alla mia esistenza seppure per me è un senso estremamente importante per il resto del mondo è qualcosa di marginale e magari già soltanto in quell'oretta valutare così a grandi linee ciò che si è fatto dare degli input delle idee e capire cosa fare al 90% magari sarà diciamo una risposta negativa però potrebbe potrebbe aiutare sia per indirizzare sia per capire magari che non è non è fattibile non è percorribile quella strada che un risultato è già stato raggiunto non va bene potrebbe anche essere potrebbe avere un senso anche solo un'ora potrebbe essere un'idea però solo per quell'argomento lì in genere non non mi citravo molto a fare una chiacchierata di un'ora ok bene dovresti ripetere dopo qualche giorno per convincere ok qui stai rispondendo al commento di ingegneria biochimica di Gabriele abbiamo Laura un salutone a Laura mi dice ciao Marco visto che mi sembra una live leggera sì assolutamente anche perché ho provato a giocare a scacchi è stato un disastro quindi non ragiona mi viene in mente di chiederti quando è stata la prima volta se ricordi che sei venuto in contatto con il problema della definizione delle proprietà della detrazione l'ho raccontato in realtà marginalmente fin da bambino mi sono affascinato è rimasto affascinato questa cosa a moltiplicare per per quindi fare tre per tre per in realtà che cosa sto facendo tre per tre per tre per tre per tre per tre quindi tre alla sto costruendo le potenze successive diciamo sono ai per tre poi quando ho scritto l'articolo sulla biblioteca di Babbele l'idea l'ho avuta non mi ricordo se a fine 2009 o inizio 2010 forse 2010 nel 2010 credo poi il libro l'ho pubblicato nel novembre 2011 quindi quanto sono passati non ho fatto solo questo mi occupavo di test del cui era appassionato nel 2012 infatti sono andato lì a Dubai ho pubblicato un paper nel 2012 che avevo inviato nel 2011 quindi insomma il 2011 è stato un anno molto prolifico e stavo scrivendo anche questo libro quindi il 2011 forse è stato l'anno più creativo tra quelli tra quelli del passato e poi gli ultimi due dal 2019 al 2021 ho fatto il massimo di quello che ho prodotto ok ora vi do la soluzione nessuno me l'ha scritta adesso la rifaccio a Laura la domanda penso Laura ora mi risponderà io avevo chiesto prima quali collegamenti vi vengono in mente fra la mia formula della velocità di congruenza della tetrazione e l'ipotesi di Riemann nessuno mi ha risposto cioè che collegamento ci può essere non vi sto dicendo fra la tetrazione fra la formula che esprime la velocità di congruenza della tetrazione e l'ipotesi di Riemann qualche live passata avevo anche accennato sta cosa ma voglio vedere chi lo trova se aprite i miei paper soprattutto penso si veda già nel primo paper quello on the constant congruent speed of detration già in quello se lo avete letto anche in maniera approfondita ma non super approfondita dovreste avere avere un'idea mi chiede ah ok vorrei dire nell'intanto comunque è incredibile come c'è che sei da bambini ma infatti molti di questi grandi risultati che sono tenuti nella matematica sono iniziati da bambini Wiles ha trovato quel problema in un libro mi sembra e fin da bambino si è ripromesso che sarebbe riuscito a grande a dimostrare l'ultimo dilemma di Fermat ci ha messo altri 35 anni 30 anni quello che era ma ci è arrivato ed è davvero così bisogna passarci tutta la vita ho letto di recente che avevano risolto un problema di un codice che non si riusciva a decriptare una cosa vecchissima e ci sono riusciti due ricercatori dopo 15 anni di lavoro anche con un po' di fortuna a detta loro 15 anni ci hanno messo è così la matematica i grandi problemi sono problemi a cui bisogna dedicare tutta la vita più che scrivere un libro una scultura un quadro si è abbastanza convitto la mia passione per i numeri e penso anche io che tu abbia tanto talento dai commenti colletto e vorrei dire tu Laura dovresti davvero coltivare questa capacità è vero che alcuni Asperger diciamo 29 hanno disfunzioni esecutive non so penso ci sia magari un legame fra ADHD e Asperger ma non saprei non è il mio campo mi dice vorrei dire in generale sia derivata da mia nonna che da piccolo faceva contare sì ma in molte cose la passione si sviluppa da bambini e poi forse il cervello si orienta in quella direzione non vi so dire ma questo libro non è più disponibile se è curiosa lo puoi leggere 1729 no non è disponibile però questo libro e congetture inedite sono gratuitamente scaricabili non in versione stampata però in versione PDF sono completi quindi dalla A alla Z sono completamente scaricabili sul mio sito SPQR Society andate su Marcos Works andate su About the Founder sotto menu Marcos Works e scaricate i due file sono gratuiti non ci sono virus niente sono dei PDF che ho caricato e sono i due libri sono gratis per voi Alessandro Alessandra scusa Alessandra scusa pensi che gli insegnanti ti abbiano incoraggiato appassionato indotto aumentato il tuo interesse per la matematica durante il periodo scolastico spero spero che qualche mio docente di matematica non sia un mio follower nel caso mi scuso ma sapete quello che ho che ho passato con la matematica cioè le famose frasi dopo aver preso otto e mezzo il voto più alto della classe in quel compito in classe era stato cinque e mezzo mi sembra e poi ho preso otto e mezzo dimostrandomi un teorema per non applicare sei volte una proprietà per non fare un conto sei volte dopo di questo la domanda è stata ripalla lavagna dimostrazioni sui triangoli cose per me banalissime che non riuscivo a capire perché dovessi dire dei passaggi ovvi la frase successiva ripattito il debito convocati i miei genitori a mia madre è stato detto questo ragazzo non capisce niente di matematica non è portato lo vedo bene a studiare psicologia ma la matematica non fa per lui questo al biennio ma la professoressa dico la verità non ha mai capito niente di come ragionavo cioè non è mai minimamente entrata nell'ottica di come potesse il mio pensiero funzionare un po' come scusatemi il paragone molto sono distante da quei livelli però quando gli esaminatori hanno bocciato due volte Evariste Galois all'esame di ammissione alle colpe di technique cioè Galois secondo loro non era degno di frequentare l'università scientifica perché saltava i passaggi era confuso però in quegli anni là stava producendo il risultato una soluzione di un problema aperto da 1500 anni creando una nuova branca della matematica seppur in versione non moderna embrionale che è la teoria dei gruppi qualcosa forse riusciva a fare forse degno di andare a scuola poteva pure essere considerato degno di andare a scuola e lui non è mai più entrato in quella scuola poi ha ripiegato su una scuola inferiore poi è morto a 21 anni in un duello famoso quindi no non mi hanno solo incoraggiato non è che non mi abbiano alcuni docenti non è che non mi abbiano incoraggiato ma oltre a darmi una pessima diciamo istruzione matematica al liceo ho studiato malissimo matematica ma perché non mi era e questa fase mi ha provocato anche problemi poi analisi ho dovuto recuperare tutto ma soprattutto sono stato proprio scoraggiato cioè mi sentivo proprio io inadeguato e col senno di poi ora non voglio dire una bestialità ma ipotizzo di avere più pubblicazioni io della mia docente di matematica nonostante forse oggi abbia non dico la metà dei suoi anni ma non so magari dovrei cercarlo ma così immediatamente rispetto alla media dei docenti di matematica che ha 12 pubblicazioni più in review di matematica lasciando stare le altre forse ne ha più della media però ipotizzo poi si pesano super troppo contento di aver venuto come ospite grazie grazie siamo un po' beccati così a me ha fatto molto piacere mi dispiace per come ho giocato però mi sono divertito mi sono trovato bene anzi è stato pure un modo di testare la reazione della tua community e ti ho fatto i complimenti però perché la community segue il content creator si orienta se un content creator dà un contenuto bello pacifico allegro ha una community serena gioviale che accoglie gli altri che accetta anche qualcosa di brutto perché immagino per un canale di scacchi vedermi giocare stasera è stato qualcosa di brutto eppure è incredibile quanto mi abbiano trattato bene magari su altri canali più più avvezzi al battibecco anche se magari sono interessanti proprio la community si comporta e segue la media delle discussioni che magari si accendono magari attira pubblico ma mette più a disagio l'ospite in generale crea un clima meno amichevole a me piace molto invece un clima di condivisione anche per quello mi piace giocare a scacchi contro il computer perché non mi piace la sfida uomo contro uomo mi piace proviamo una volta a fare qualcosa di bello anche se perdo cento partite però ci ricordiamo quella partita che abbiamo vinto abbiamo condiviso tutti insieme e poi l'idea della matematica non a caso e ancora non vi do la soluzione ipotesi di rima tra parentesi iscrivete me nel chat a me piace molto il motto di Galois quello quando diciamo non ci si associerà più per pubblicare e mandare i pacchetti alle accademie per condivisione e questa frase che lui ha scritto in galera in carcere ad Estée Pelage nel dicembre quindi esattamente cento novanta anni fa nel dicembre lontanissimo 1831 l'ho utilizzata per chiudere il mio ultimo paper di teoria di grafi che chiude una trilogia la più importante che abbia mai scritto di teoria di grafi non di teoria di numeri e la chiudo proprio con quella citazione di Evariste Galois e quindi il paper è pubblicato lo trovate su Journal of Fundamental Mathematics and Applications JFMA volume 4 issue number 2 da pagina 154 a 166 però ci farò una live e per me è stato un momento veramente emozionantissimo chiudere il mio percorso di teoria di grafi anche se adesso scriveremo un altro paper però quel percorso lì quindi grafi K-dimensionali chiuderli citando il mio mito Galois veramente quella sua idea di libertà di libertà ribelle forse eccessiva ma ribellione al fatto che si pubblichi per egoismo più che per condivisione e quindi per me è un grandissimo è un grandissima grandissima emozione quando qualcuno cercherà quella frase troverà quel paper scritto da me ma in qualche maniera condiviso con tutti non a caso l'unico video che ho dedicato interamente alla vita di un matematico è stato quello che ho dedicato Evaristo Galois l'unico forse anche l'unico video dedicato interamente a un genio del passato commenti Axi 400 di cui eh sì forse anche un po' meno perché diciamo non abbiamo abbastanza la popolazione per confrontarci con un cui oltre 200 Lavi a causa della mia poca intelligenza no assolutamente non mi dite questa cosa e probabilmente scarsa dostia molto più probabile hai sempre odiato la matematica perché non ci hai capito nulla nonostante l'abbia sempre considerata interessante ora ti dico una cosa importante questo l'ascoltate tutti perché è importantissimo studio scientifico fatto vi posso dire la pubblicazione perché non me la ricordo però uno studio scientifico fatto con un doppio campione quindi doppio cieco hanno preso un gruppo di persone divisi per sesso quindi maschi e femmine e hanno iniziato perché c'è la congettura si ipotizza nell'immaginario collettivo sbagliando che gli uomini siano più bravi nella matematica e magari le donne siano più bravi nelle materie letterali allora per sfatare questo mito hanno preso questi due gruppi e li hanno divisi hanno detto ok non soltanto li dividiamo in base a uomini e donne facciamo anche un'altra ripartizione basata su un altro stereotipo che è quella se sei asiatico sei bravo in matematica per insta ora lasciamo stare però diciamo c'è un po' lo stereotipo che gli asiatici siano più bravi con i numeri e quindi che cosa hanno fatto per vedere quanto contasse l'autoconsapevolezza cioè il fatto di credere di essere bravi hanno preso questi gruppi e in un gruppo non ricordo se hanno mischiato uomini e donne ma diciamo basandosi su questo stereotipo e hanno fatto vedere hanno messo in luce gli aspetti positivi quindi prima di fargli fare l'esame hanno detto adesso ti ricordo che tu sei uomo notoriamente gli uomini vincono più medaglie Fils poi sei anche asiatico quindi ovviamente Terence Stout sono tutti asiatici quindi non puoi non andare male a questo compito e diciamo il discorso era medio quindi facendo una media hanno notato che rispetto all'altro gruppo a cui facevano notare il contrario se non è va bene ma tu non sei un uomo un matematico poi c'era Gauss che era e quindi tra i due gruppi anche se erano eterogenei a quello a cui hanno messo in luce gli aspetti che dovevano in teoria favorire statisticamente l'ottica collettiva sbagliata infatti non andare bene quelli hanno sopra performato gli altri hanno sottoperformato quindi questa cosa ha dimostrato non che gli uomini siano più bravi in matematica delle donne perché è falso ha dimostrato che se tu sei convinto di appartenere a un gruppo che è favorito nel fare una cosa vai meglio in quella cosa mentre la stessa persona a cui fanno notare il contrario quindi per esempio prendiamo sempre due gruppi eterogenei diciamo in un gruppo ci sono uomini donne europei asiatici chiunque diciamo ad alcuni facciamo notare i loro vantaggi quindi per esempio a me faranno notare eh vabbè ma tu sei uomo sei come Gauss che è il più grande matematico e poi magari a una ragazza faranno notare eh vabbè ma tu sei asiatica quindi sei come da ne stavo e gli asiatici in matematica sono più bravi mediamente i compiti in classe sono superiori a quelli degli italiani poi ad altre persone che appartengono all'altro gruppo fanno notare quindi al me stesso dell'altro gruppo fanno notare eh vabbè ma tu non sei asiatico ma tu hai che so 37 anni e qui l'abilità matematica di crescere che so e quindi rispetto al me stesso dell'altro gruppo vado peggio l'altro va meglio alla ragazza magari fanno notare eh va bene ma tu eccetera il contrario non fanno notare sei asiatico fanno notare non sei gauss e quella andrà peggio della sua omologa dell'altro gruppo questa cosa è estendibile anche a test del cui dove conta anche la motivazione per esempio fecero un altro test evidenziato come dei ragazzini motivati andavano meglio dei ragazzini motivati in un test del cui quindi in teoria culture fair immaginate un ragazzino di te va bene ma ti raddoppiamo la paghetta o ti diamo comunque dei soldi se tu rientri nei gifted e poi per una settimana puoi sceglierti il gelato che vuoi forse prenderlo per la gola non è il massimo quindi comunque offrino dei soldi un premio un giocattolo che vuoi all'altro gruppo invece adesso mamma ti porta a fare l'esame comportati bene poi ti vengo a riprendere vediamo il punteggio che ottieni tra i due gruppi a parità di cui la media era la stessa andava meglio quello che era motivato perché è un premio quindi anche in un test in teoria dove non dovrebbe entrarci nulla l'aspetto cioè un test a figure che ne so matrici 3x3 se lo sa risolvere lo risolvi non è che lo sbagli di proposito ma dai due gruppi la differenza era netta quindi dovete credere in voi stessi la famosa frase di Kobe Bryant con Pianto se non credete in voi stessi perché qualcun altro dovrebbe farlo cioè dovete essere voi stessi i primi a credere in ragionamento di quel risultato se non avessi creduto di poter ottenere questo risultato in teoria dei numeri mi sarei fatto abbattere non che non vi abbia dato fastidio ma tutti i commenti degli hater da quella gente che viene ah ah non è la laurea in matematica i matematici ti deridono ma guarda quanti hai più dislike che like fallito sai vede che questa persona pubblica conosce si pubblica da solo le cose ma sono pieni di errori e la mia università lo deridiamo tutti cioè ste cavolate qua che nei fatti ho smentito con le pubblicazioni ma che hanno un impatto emotivo e ti portano a performare peggio quindi dovete dovete crederci super ok ah ok nuovi commenti Laura mi dice non ne sei sicura ok avevi iniziato a leggere il paper il primo paper ti verrebbe da dire che il valore critico con cui si stabilizza la velocità di congruenza può essere l'analogo della distribuzione di zeri di Riemann non proprio però ci sei vicina non ne sei sicura leggiamo il secondo è interessante anche notare il dislivello notevole nel ranking scacchistico uomini donne ma li avranno anche fatti gli studi ma probabilmente se andate a vedere giocano molti più uomini a scacchi quindi non so forse la pattern recognition a livello statistico so che c'era un discorso qualcuno aveva teorizzato che a livello evolutivo il maschio è più favorito a livello storico cioè diciamo ha spinto di più sulla capacità di pattern recognition perché era quello che insomma nell'antichità a livello tribale era deputato a raccogliere il cibo quindi era doveva seguire i percorsi degli animali che ne so attendere le trappole ma studiando i tragitti che facevano quindi doveva più che altro studiare le ricorrenze a livello di strutture mentre probabilmente le donne erano più diciamo spingivano più sull'aspetto sociale quindi intesse rapporti argomentare eccetera quindi questa cosa potrebbe aver portato a livello ma questa cosa ragazzi io la voletta ma non vi so dire quanto sia credibile quindi apprendete per quello che è commento così che l'uomo abbia evoluto di più quell'aspetto lì non perché abbia un cervello diverso ma semplicemente perché ha allenato quelle abilità negli anni perché gli servivano di più per quello che faceva mentre le donne per esempio sapevo che erano più bravi per quanto riguarda l'aspetto verbale quindi ma anche organizzare i discorsi un po' diciamo il cicerone per dire oggi sarebbe più probabilmente donna e questa cosa non ha portato una differenza nelle abilità semplicemente secondo questa teoria ha portato una diversa specializzazione come se io mi alleno per la forza divento più forte ma magari ho meno muscoli di un bodybuilder che si allena per ambientare la massa o di un velocista che si allena per di un mezzofondista che si allena per la resistenza però non perché il mio corpo non sia altrettanto capace di performare in quel campo ma semplicemente perché ho allenato quell'abilità di più però questa cosa io non ve la so confermare mediamente non ci sono differenze all'idello medio però se poi vai a disgregare a vedere lì sotto categorie magari trovi delle differenze una bilancia all'altra però quindi si pareggiano ok questo vorrebbe spiegare il discorso degli scacchi ma non è anche detto quindi ci fu l'esperimento della Polgar il padre c'è anche super speed che ci ha fatto un video allenò queste tre sorelle molto dotate una era più appassionata di scacchi un'altra giocava un po' più svogliata tutte e tre erano bravissime però Judith Polgar è stata quella che poi è diventata la più forte giocatrice di scacchi di tutti i tempi perché non solo aveva talento è stata allenata fin da piccola a giocare a scacchi ma anche perché le piaceva quello che stava facendo oggi una grande commentatrice e in generale le sue performance erano in linea con i migliori al mondo degli uomini quindi se prendiamo quell'esempio l'anno ci sono differenze cioè probabilmente lì siamo perfettamente in linea con quello che facevano gli uomini allenati con talento nel fare quello magari questa cosa è successa meno frequentemente per le donne che per gli uomini perché magari una ragazzina non ha tutto questo interesse da piccola per rimparare otto ore al giorno studiare gli scacchi tanto che le sorelle per esempio non avevano quella stessa passione nonostante ci fosse un grande talento a seconda di quello che facciamo se voi avete talento matematico ma non siete non vi fanno appassionare alla matematica fin da piccoli probabilmente da grandi magari sarete bravi ma non così bravi quanto se fosse stati come Terence Tao fin da piccoli invogliati a dare il massimo secondo me lì conta gli scacchi soprattutto conta tantissimo quello che fai da piccolo cioè se hai un padre che ti fa appassionare bravo un maestro eccetera è più probabile a livello statistico che questa alchimia si ingeneri magari con un figlio maschio il tipo guarda ti dà la scacchiera ti spiega eccetera eccetera perché magari il ragazzino è più attratto da quell'oggetto è più tipo le macchinine ma di per sé non c'è un motivo reale ma poi possiamo notare anche questo vediamo cosa sta succedendo nella matematica cioè nella matematica nell'ultima sessione ci sono state le medaglie Fils femminili cosa che a livello statistico non accadeva ma questo non perché le donne oggi sono più bravi nella matematica del passato probabilmente perché si è più uniformato quel percorso di studio e quel percorso di studio ha dei numeri più paragonabili se voi fate un discorso statistico magari trovavate che nelle materie umanistiche ci fosse una predominanza di donne nell'altro viceversa e quindi ti aspetti che magari il premio Pulitzer lo vince più facilmente una giornalista rispetto alla medaglia Fils che vince più più facilmente il matematico ma se pareggi i numeri fin dall'inizio mi aspetto risultati simili che è quello che sta accadendo oggi cioè il trend mostra che che si va nella le medaglie Fils non è che le danno così le medaglie Fils le danno perché quel risultato è assolutamente il top tra quello che c'è quindi lì non si scappa poi se mi viene in mente quante persone hanno vinto due premi Nobel mi viene in mente Marie Curie forse anche un'altra persona ha vinto due premi Nobel non mi ricordo però la prima persona che mi viene in mente è Marie Curie quindi premi Nobel materie scientifiche c'è poco da discutere ok commenti parentesi un po' sciocca però perché mi ha fatto il commento Laura quindi secondo me è semplicemente un discorso di numeri di quante persone accedono a quel percorso fatto bene seriamente se pareggi i numeri pareggia anche i risultati ripa le persone sono brave in matematica ma questo è uno stereotipo quello che vi ho detto io ragazzi non è la realtà è uno stereotipo che veniva utilizzato in quello studio voglio chiarire perché magari qualcuno non ha accolto in quello studio non è che si voleva dimostrare che gli asiatici sono più bravi sono più dotati in matematica si voleva dimostrare che chi viene indotto dall'esterno a credersi bravo in una certa attività performerà meglio rispetto al se stesso che viene depresso e scoraggiato mentre deve performare in quell'attività se mentre gioca a scacchi mi dite faccio schifo io gioco molto peggio mentre gioca a scacchi dicono Marco quanto è bravo gioco me nei scacchi non lo so però per dire in un'attività più di quel tipo si è rivelato vero poi non è che se hai 70 di cui allora ti dicono sei bravo prendi 130 nel test però se hai 130 di cui ti dicono guarda che ti do la paghetta raddoppiata mamma di la paghetta se entri nei gifted guarda che per ogni punto in più che prendi hai un giocattolo bonus che puoi comprarti farmi comprare in più a Natale guarda che ti faccio notare che tu se stai qui è perché sei il più bravo della classe allora quel ragazzino andrà meglio magari prende 135 il se stesso che oggi fa il test e basta e non c'è nessun premio ti faccio notare che se stai facendo un test è perché abbiamo dei dubbi su di te quindi rischiamo che mi deludi eccetera eccetera magari quello là prende 123 però è la stessa persona cerrato che domanda ok Carlo grande complimenti per il paper grazie l'ultimo soprattutto non mi so dire la discrepanza però c'è stata una discrepanza in quello studio un cui può passare da 117 a 160 quello reale non credo quello reale non credo magari c'è pure il caso stranissimo che io non conosco ma di persona con 117 in un test che poi si allena su tipologie simili di quel test busta tantissimo la sua abilità di risolvere quel test ma non è che poi è a 160 di cui semplicemente ha imparato dei metodi per risolvere quel tipo di test quindi insomma sostanzialmente è quasi barato però se fosse così poi ti sottopongo un test completamente diverso e magari prende 125 quindi magari si è migliorato ma poco o migliorata comunque non ne conosco di casi così estremi non ne conosco una direzione standard è normale due direzioni standard può succedere però passare da 117 a 100 poi un livello così alto cioè un conto è passare da 90 a 115 è una cosa passare da 130 a 160 cioè è molto molto più difficile passare da 160 a 190 è proprio assurdo cioè non esiste ok parlo reale non testa così non è esattamente così dice Isabella a 29 fai un test per definire se sei intelligente non sappiamo definire neanche l'intelligenza è un po' difficile fare il test Laura hai letto che varia la propensione al rischio nei due sessi può essere può essere più bassa nelle femmine quindi un profilo psicologico più o meno vantaggioso e qui ragazzi io vi cito sempre il terzo gemello di Ken Follett non è che sia un libro scientifico è un romanzo però lì viene proprio spiegata questa teoria intanto che conta molto l'ambiente nel formare soprattutto il carattere della persona in realtà vi dico anche il cui ma non solo lì viene proprio specificato che se Dio decide come entità astratta di fare delle prove per differenziare l'evoluzione fa le prove con il maschio perché a livello riproduttivo il maschio che diciamo ha delle caratteristiche non appetibili per il proseguimento della specie è verosimile che a livello statistico progredi meno mentre una donna ha comunque dovendo poi mettere al mondo un bambino ha comunque poi a livello così evolutivo il dovere di metterlo nelle condizioni di sopravvivere bene quindi una persona con delle diciamo delle difficoltà dal punto di vista della capacità di sussistenza in generale di ragionamento farebbe sicuramente a livello statistico più danni se non fosse un uomo perché potrebbe andare a inficiare la prole mentre l'uomo sostanzialmente si riproduce meno questo a livello secondo il libro del terzo gemello a livello statistico parliamo di quando si è formata la l'homo sapiens eccetera al giorno d'oggi potrebbe essere rimasta quella caratteristica nel meccanismo di variazione della cioè io e un fratello una sorella siamo simili ma non identici non siamo gemelli quindi sono delle variazioni quindi se per così dobbiamo introdurre a livello statistico una variazione casuale che può andare nella direzione che vogliamo o nella direzione sbagliata cioè dare l'effetto opposto probabilmente la natura secondo questo libro avrebbe favorito il fatto di rischiare con il maschio proprio perché se mi va male quello metterà al mondo meno figli e quindi alla fine tra qualche milione d'anni probabilmente quel tipo di modifica verrà scartata dall'evoluzione e non si perpetrerà potrebbe essere quello quindi la propensione al rischio è legata a quella cosa sia la propensione al rischio sia proprio la variazione cioè le modifiche che vengono indotte nella nella trasmissione però questo ragazzi come citazione citare un romanzo quanto simpatico di noi primi di Ken Follett non è che sia sia scienza però potrebbe essere una spiegazione se quello che dice Laura è vero io non lo so la propensione al rischio è pure una cosa secondo me che dipende dall'ambiente dal carattere soggettivo magari è così quindi diciamo sostanzialmente la natura non si è inventata niente non è che ha favorito qualcuno rispetto a qualcun altro a livello evolutivo la specie vuole soltanto migliorare e adattarsi all'ambiente quindi per adattarsi all'ambiente non può rimanere sempre uguale non può trasmettere identica la precedente generazione alla successiva quindi si mette al mondo una persona si cerca la variazione la variabilità infatti anche spesso si è attratti lo dice anche il libro l'equazione impossibile mi sembra si è anche attratti proprio dalla differenza da persone molto diverse quindi magari che vi devo dire non mi viene un esempio cioè se io ho delle caratteristiche magari sono attratto da una persona che ha delle caratteristiche molto molto diverse che sono un miscuglio di caratteristiche eterogenee non tutte dello stesso tipo e quindi questa cosa ci attrae dal punto di vista magari della scelta del partner ma è anche un modo per far ancora di più circolare e variare il patrimonio genetico che verrà trasmesso anche con delle variazioni poi statistiche e questo provando e riprovando porta la vita ad adattarsi all'ambiente che muta se magari siamo favoriti perché abbiamo un cui più alto fino a un certo punto può essere un vantaggio poi può essere uno svantaggio e facendo delle prove magari vediamo fino a che punto è vantaggioso avere un cervello iper-efficiente ma magari dormo male ho poche relazioni sociali sono triste quindi magari quella cosa va bene finché mi porta avere un vantaggio sull'ambiente a diventare un leader a trovarmi bene avere nuove idee scoperte ma oltre a un certo livello è sbagliato quindi magari anche spingendo aumenta il cui a un certo punto la natura farà le prove e dirà va bene questa persona però è vantaggiata rispetto al suo predecessore con 160 di cui magari 160 è sbagliato non è così ma lo favoriva 180 lo sfavorisce allora torniamo indietro a 160 ma come può farlo se non induce una variazione ok mi dice cerrato scusami io che ho tutti questi consigli ho un cui di 160 o superiore non so quanti consigli stia dando non so quel che dico in teoria si ho 160 o superiore ma perché ti interessa così tanto ah stai parlando da 29 ma ragazzi non è il discorso del cui non conta più che altro qui ci dovrebbe venire in soccorso qualche esperto di scienze cognitive io vi dico che ho letto queste cose negli anni però le fonti andrebbero cercate e citate quindi anche il discorso che sto facendo io adesso prendetelo come un discorso da barra perché il fatto di citare Ken Follett in un romanzo non è che sia bibbia o anche in un libro magari divulgativo sulla matematica andarsi a leggere quella cosa se poi era quello uno sbagliato libro voglio dire da un'informazione pure abbastanza parziale per esempio siamo attratti dalla simmetria del volto eccetera proprio per quel discorso lì quello che viene detto nel libro però si nota per esempio immaginate che ne so nel mio caso un'attrice o un attore quello che vi pare che magari ha dei tratti somatici molto molto originali che magari sono il frutto di un genitori di diversi paesi completamente distanti nel globo eccetera magari può generare più attrazione di una tipologia più 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 comune di volto che magari abbiamo visto più spesso questo vorrebbe proprio dipendere da quel discorso della trasmissione della variabilità quindi così abbiamo caratteristiche più eterogenee da poter trasmettere abbiamo come avere più mattoncini Lego con cui poter costruire forse la marca non devo dirla con cui poter costruire più più oggetti ma se sono tutti dello stesso tipo possiamo costruire la stessa casa sempre la stessa cosa ebbene questa è una cosa molto bella è creativa anche la natura è molto creativa ci sono degli insetti che hanno dei vanno in letargo e hanno dei cicli che sono numeri primi proprio diversi prendiamo 11 e 17 o 13 e 17 schiudono ogni 17 anni o 13 anni perché sono in competizione fra loro queste larve e immaginiamo diventano le farfalle o delle cavallette immaginiamo non so immaginiamo una cavalletta che va in letargo non so come dirti e a quel punto sarebbero competitor nello stesso habitat e perché la natura ha scelto due numeri primi perché due numeri primi hanno il fatto di poter capitare in sincronia soltanto una volta ogni prodotto e due numeri primi ogni 13 per 17 anni poniamo se avesse scelto 12 e 16 sarebbe capitato molto più spesso avrebbe danneggiato entrambe le specie è una cosa stranissima ma la natura ha scelto i numeri primi per quel motivo non perché abbia risolto l'ipotesi che rimane ora vi devo dare la risposta è quello capito anche a me di pensare la notte ah ok c'è errato ma figurati mi chiedete sempre cosa ne penso il dual and back ma non l'ho approvato non ve lo so proprio dire cioè qui non posso dare delle opinioni su qualcosa che non conosco non perché non sia valido ma perché proprio non ho avuto occasione o interesse ah vi do la risposta che cosa c'è in comune fra la mia formula di veloce di congruenza e la detrazione e l'ipotesi di Riemann intanto ci sono dei risultati che mettono in correlazione proprio i numeri primi la fattorizzazione con la detrazione cioè si può studiare la congruenza della detrazione non come veloce di congruenza ma come ultime cifre come convergono per avere dei criteri utili per fattorizzare ma di cui non sono esperto e fra l'altro discorso della 2 adic e 5 adic valuation cioè posso dire che la veloce di congruenza dipende dal massimo esponente con cui compagno alternativamente il 2 e o il 5 all'interno della fattorizzazione di quella base ma in generale la cosa diciamo pazzesca è che scusate se andate a vedere la distribuzione della veloce di congruenza cioè proprio i valori cioè andate a studiare v di a per b abbastanza grande quindi v di a uguale v di a b ma b è abbastanza grande allora vedrete che i valori sono periodici ma relativamente piccoli qui abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 come ultima cifra per 0 per le basi che termine per 0 non c'è veloce di congruenza costante ora questi valori poniamo che qui ci mettono le decine 10 20 30 40 sono valori piccoli tipo 0 1 1 1 e qui che ne so 2 1 2 1 1 eccetera e questa cosa mi porta ad avere sulla diciamo sul valore medio quindi 5 tutti i valori più grandi tanto che poi ho dimostrato nel pepe una volta a trovare la formula ho dimostrato pazzesco eh che tutte le più piccole basi che hanno una certa velocità di congruenza sono tutte le basi che finiscono per 5 sono tutte quante qui tranne quelle che hanno una velocità di congruenza 1 perché qui partiamo da 2 quindi in quel caso prendo 1 o 0 0 1 per 0 per la velocità di congruenza 0 e 1 ora la funzione che descrive queste basi tutte ma anche le più piccole è una funzione con i numeri immaginari che può essere scritta come combinazione di seno e coseno quindi ho una funzione goniometrica che poi tramite la formula di Eulero sappiamo che sen quadro x più coseno quadro x è uguale a 1 e poi la famosa formula è alla ip meno 1 è più 1 uguale 0 quindi sostanzialmente posso andare a sostituire e passare da una all'altra ora fermatevi se ho detto qualche credinata e quindi a questo punto io posso ragionare così e posso dire se qua ho una funzione goniometrica e tutti i valori più alti sono qua in mezzo quindi tutte le più piccole basi è come fossero i zeri della funzione quando vado a cercare la più piccola base che ha una certa velocità di congruenza trovo la soluzione come più piccola base tutto quanto si allinea su un cammino critico che guarda caso è proprio in mezzo ma non è finito qui perché questo cammino critico che è a metà strada visto che sono nove numeri possibili cinque è proprio la metà è speculare e il periodo della funzione è proprio riferito alle soluzioni di quell'equazione che ho risolto nell'anello comodativo degli interi dieci adici le soluzioni sono sempre a coppie quindi c'è una soluzione c'è anche il suo opposto quelle soluzioni sono una per le basi che terminano con un numero pari e due per le basi che terminano con un numero dispari più poi c'è 0 e 1 che scartiamo questa cosa è interessante perché sono due anche per la base che terminano per 5 ma in quel caso non c'è specularità quindi la regola che descrive la velocità di congruenza delle basi che terminano per 1 è sostanzialmente la stessa delle basi che terminano per 9 per 2 la stessa delle basi che terminano per 8 sono proprio esattamente poniamo uno basi che terminano per 2 la serie potrebbe essere 2 alla 5 alla n e poi da qui si deriva altre cose dovrebbe essere meno 2 alla 5 alla n sono uno l'opposto dell'altro questo è più questo è meno la regola però è la stessa quindi le regole sono tutte quante speculari a coppie 5 non ha niente con cui accoppiarsi la somma deve dare 10 perché il sistema di numerazione è decimale è 2 per 5 quindi ho 1 più 9 ecco ancora 0 modulo 10 quindi è 10 2 più 8 3 più 7 4 più 6 5 con cosa si accoppia? si accoppia con se stesso e quindi qua è un po' come avere il cammino critico la retta critica da proprio ascissa un mezzo in questo caso ascissa 5 è pazzesco 0,5 5 è una bella similitudine sto per chiudere la live ok domani è il compito di matematica sulle equazioni in bocca al lupo se hai delle domande io qui sto per chiudere un'ora e mezza chiudiamo fatemi sapere se ho detto qualche cretinata non siete d'accordo mi dispiace che sono entrato un po' in quel discorso lì delle statistiche dei paper per quanto riguarda la psicologia di cui non sono non sono ferrato però vi dico che negli anni ho letto queste ricerche poi non è detto che pubblicare un paper uno studio dia la verità cioè loro hanno fatto un esperimento hanno pubblicato i risultati su una rivista non è che questa cosa sia bibbia però potrebbe essere un'idea per spiegare perché magari a livello statistico si verifichino certi fenomeni soprattutto nel passato mi ho detto secondo me l'idea è che il trend è che più passano gli anni e quindi sia anche una cultura diversa si pareggiano le opportunità eccetera più risultati tendono ad omologarsi cioè queste differenze secondo me sono ancora in parte figlia del passato o di stereotipi o anche solo del fatto appunto che ci si convince di qualcosa e quindi si tende ad far avverare quella convinzione proprio nelle proprie capacità e nella propria autostima ma sono convinto che se dessimo lo stesso valore fin dall'inizio alle stesse abilità che avessimo le stesse opportunità sostanziali assolute anche i risultati sarebbero pressoché sovrapponibili già adesso la differenza è molta meno ma secondo me si tenderebbe proprio a una differenza minima o inesistente se però alla fine andiamo anche a forzare quella che magari è la nostra indole perché magari da piccoli abbiamo degli interessi diversi proprio di nostro quindi se mi forzassero a fare una cosa che non mi piace giocare a campana piccolo qualcuno gioca a campana a me mi annoiava tantissimo magari oggi avrei delle abilità fisiche o delle caratteristiche saprei saltare a corda con due corde saprei fare quelle cose benissimo invece non lo so fare non perché non sia capace perché piccolo non ci ha giocato magari giocava a calcio facciamo fare il contrario probabilmente abbiamo le capacità invertite questo è un po' il mio sospetto molto spesso le differenze sono proprio nella nostra testa cioè il fatto che ci siano quello bravo in quella cosa quello portato per quella cosa magari in parte è innato ma una buona parte è anche la convinzione di quello di essere bravo in quell'attività e di essere motivato e la nostra di non essere capaci o viceversa va bene il paper spero che ve lo leggiate e la collerazione con l'ipotesi di Riemann si vede proprio se prendete il paper precedente quello del 2020 on the constant congruent speed of tetration c'è una tabella anche solo guardando i primi 1100 valori della velocità di congruenza c'è anche su EISMA lì avete la tabella proprio prendendole guardando l'occhio vedrete che ci sono dei numeri che fuoriescono quei valori là quelli sono un po' gli zeri della funzione sono i più piccoli valori che hanno una certa velocità di congruenza ma in generale la retta critica in mezzo ha dei valori altissimi che crescono tantissimo perché le basi del termine per 5 hanno una velocità di congruenza mediamente molto grande Laura mi dice quindi se le basi 5 e mod 10 per esempio facciamo un'altra cosa tra le persone che leggo qui sul canale i commenti tecnici migliori e più profondi mi scrive Laura però non voglio levare qualcosa agli altri però diciamo tra le varie persone che diciamo lo frequentano in maniera assidua secondo me Laura è una delle persone più brave in matematica fra quelle che commentano i video del canale per fare un livello statistico se le basi 5 e mod 10 contengono risolto dei problemi in passato che avevo posto insomma mi è stupito leggiamo se le basi 5 e mod 10 contengono tutti i più piccoli valori delle basi da una certa velocità di congruenza arbitraria mi sei persa qualcosa aspetta l'ho letto male le basi 5 e mod 10 contengono tutti i più piccoli valori delle basi data una certa velocità di congruenza allora il paper quello on the constant congruent speed of detration pubblicato sul volume 26 quello lì si chiudeva con una congettura la congettura era ma sarà vero che per tutti i valori da due in poi della velocità di congruenza della detrazione tutte le più piccole basi terminano per 5 quindi appartengono alla classica di congruenza che ha scritto Laura 5 e mod 10 la risposta è affermativa la dimostrazione nel paper la dimostrazione è divisa in due parti mostro che da un certo punto in poi tutte le basi devono avere velocità di congruenza che termina per 5 devono avere determinare per 5 cioè la velocità di congruenza delle basi che termina per 5 è fatta di finta una curva così poi ci sono altri valori per cui in teoria potrebbe anche essere vero il contrario anche se è improbabile e lì lì vado a cercare manualmente uno per uno e fino a 19 quindi per i primi 19 valori della velocità di congruenza trovo manualmente che da 2 a 19 le basi hanno sempre il 5 come ultima cifra dal 19 in poi ho quella dimostrazione che mi garantisce che è sicuro che dovranno terminare per 5 quindi unendo le due cose sai che la risposta è affermativa prossimo problema aperto mi chiede a 29 su cui lavorerò già ce l'abbiamo è quello dei puntini in 2D del discorso di creare dei cicli chiusi dei cicli dei circuit minimali la lunghezza totale eccetera non sarà un lavoro forse pesantissimo quanto gli altri ma ho conto di dedicarci 6 mesi a partire da gennaio condividerò i risultati poi nel live per abbonati a partire da quella del 4 gennaio iniziamo da lì e nulla poi voglio inviarlo a un journal che sceglierete voi perché avrò dei coautori che siete voi che mi seguite sul canale già ne ho uno o due spero che ce ne sarà anche qualcun altro e quindi poi il journal lo scegliamo insieme ma lo decidete voi sostanzialmente decidete voi a chi lo vogliamo mandare vediamo se rispetta le caratteristiche del nostro paper se il nostro paper rispetta le caratteristiche le richieste del journal all'argomento e tutto il resto scegliete mi dite voi a chi mandarlo e lo mandiamo a quella rivista se vogliamo una rivista no se mi dite pubblichiamolo sul research che è ti lo pubblico sul research che è come vi pare mi dice Axie Marco ha velocemente letto il mio libro la parte iniziale vorresti comprarlo ma non è in vendita purtroppo non si può acquistare mi piacerebbe tantissimo farvela avere ma ne ho pochissime copie per uso personale e non è in vendita ma non si trova proprio l'unica idea che mi è venuta è cercare se c'è una copia depositata presso le biblioteche nazionali mi sembra almeno 5 le avevamo depositate lì che era pure obbligatorio tra l'altro l'editore ha detto di averlo fatto e quindi vorreste chiederla in consultazione l'altra idea che ho avuto è di regalare una copia però col vincolo preciso perché ne ho veramente 3 o 4 col vincolo preciso che ve lo prestiate tra di voi quindi dovrei poi dire segnatevi una lista un mese ciascuno dopo un mese chi ha avuto la copia dopo un mese prende la invia all'indirizzo dell'altro vi mettete d'accordo fra di voi vi scambiate l'indirizzo e lo invia all'altro però non so quanto sia fattibile io lo invio a una sola persona ma poi con la speranza che in un anno faccia 12 persone e lo leggete un po' tutti mi occupo dei problemi del millennio a 29 no non ho né la forza né la capacità quello che voglio fare è occuparmi della vita reale e delle persone voglio iniziare a dare un po' più spazio ai rapporti interpersonali alle persone che secondo me mi fa piacere sentire con cui con cui dialogare passare del tempo quindi dal punto di vista della matematica secondo me il piccolo l'abbiamo raggiunto ora andiamo in discesa e voglio dare priorità ad altri aspetti della mia vita ho 37 anni quindi dai qualcosa di buono abbiamo fatto magari potevamo fare di più ma ci accontentiamo l'ultimo commento è di M67 su Matstack Exengio ci sono decine di risposte alla questione del tuo scritto come fa a essere nuovo attenzione allora M67 asserirebbe che il mio paper non sarebbe un risultato originale per favore condividi con noi questo sapere su Matstack Exengio considerate che io l'ho inviato a dei revisori che hanno confermato che quella cosa è completamente nuova esperti del settore vi assicuro che questa è una boiata gigantesca quindi le domande sono due le possibilità sono due o M67 non ha letto il paper non ha idea di cosa parli seconda cosa è consapevolmente sta consapevolmente affermando una cosa falsa quindi sono curioso io sto qui aspettando devo chiudere la live ma sto aspettando perché c'è questo colpo di scena qualcuno ha trovato prima di me la formula che descrive la velocea di congruenza alla detrazione avendola già definita avendo scoperto che è una funzione periodica sapendo il periodo giusto? è proprio così ha cercato M67 condividici il link cioè metti la parte finale cioè dove tu hai affermato che ci sono i miei risultati dove sono? dove posso trovare la formula la velocea di congruenza alla detrazione? calcolate che sono usciti due mesi fa dei paper su Archive che dicono ho dei risultati in quel settore che è completamente nuovo e sono sbagliati però sono curioso non è per fare polemica è proprio per per chiarire una boiata enorme detta sul mio lavoro più importante lo avessi saputo avrei copiato i risultati senza passarci 12 anni e li avrei spacciati come dite voi sono un millantatore ciarlatano li avrei spacciati per risultati miei avrei fatto molto prima a copiarli poi su Madstack Exchange non è una pubblicazione attenzione cioè parliamo di un forum di un sito tipo dove la gente può rispondere alle domande può scrivere quello che vuole poi può sbagliare può azzeccare nel senso vediamo sono curioso ammesso io ho cercato all'epoca eccetera ci sono semplicemente cose del tipo calcolare le ultime 5 cifre di 7 alla 7 alla 7 alla 7 cose così cose ridicole veramente ridicole cioè che in questo libro ma infinitamente infinitamente oltre quindi intanto chiederei a M67 di definirmi cos'è la velocità di congruenza della detrazione magari immagino farei fatica a definirmi semplicemente quello di cui stiamo parlando però io sto qui non chiudo la live aspetto ci saranno i link è proprio così dove la domanda è dove se mi dite dove è pubblicato le due soluzioni note sono number 3 schede mathematics volume 27 issue number 4 da pagina 43 a 61 dove sono le stesse cose su madstack exchange che dite voi domanda dove sono aspettiamo di leggerlo facciamo un esempio vi scrivo qua la lavagna la formula che descrive la velocità di congruenza di tutte le basi che terminano per 5 per esempio io ve la scrivo poi mi dite dove si trova quella formula pubblicata prima di me è tanto semplice io ve la pubblico quello è un teorema un corollario e poi voi mi dite quel risultato sta già là pubblicato è molto semplice sputtano a qualcuno ma che dici ma è molto usato comunque posto il link sono tantissimi mi devi postare uno io ti scrivo una formula un mio risultato e tu mi dici quel risultato da dove lo puoi ottenere con le cose già pubblicate è molto semplice sta dicendo le cose assurde ridicole però sinceramente sono contento se sei passato il live così ti rispondo non devo avere i commenti allora ti posso fare con le basi che terminano per qualsiasi cifra quindi mi puoi dire una base qualsiasi oppure per dimostrare che esistono infiniti numeri primi che abbiano una data a velocità di congruenza immagino chi non lo sapeva prima di me prendiamo questa perché è corta solo perché è corta è un po' più lunga dipende da voi volete solo le più piccole basi con una certa velocità di congruenza o solo quelle tutte quelle che terminano per 5 no non è impossibile è falso magari in teoria è possibile che qualcuno abbia pubblicato una cosa uguale a un altro ma nel mio caso è falso perché ovviamente non ho fatto altro che verificarlo per tutta la vita allora ah tra parentesi l'autore ovviamente sa che c'è un mio paper l'autore di quel commento non può fare non deve fare altro che mandarmi un'email e segnalarmelo tra parentesi comunque allora io vi dico per esempio corollario 2 tutte le basi tutte e solo le basi che terminano per 5 quindi per ogni base chiamiamo vabbè poniamo chiamiamo a 5 di n l'insieme di tutte le basi della forma 10 alla k più 5 scegliete voi no ho detto una crinata tutte le basi che sono congrue a 5 modulo 10 perché qua devo ridefinire tale che ogni elemento vabbè ogni elemento di questo insieme questo è l'insieme sta facendo una crinata vabbè dico a parole questo è l'insieme di tutte e solo le basi che terminano per 5 allora questo insieme lo andiamo a limitare per la velocità di congruenza n cioè n è la velocità di congruenza delle relative basi per ogni b abbastanza grande poniamo b maggiore o uguale di a più 1 per esempio è sufficiente allora questo insieme com'è fatto è fatto così ma l'avevo già scritta mi sembra in un'altra live vabbè l'avevo già scritta in un'altra live vabbè per dirne una però prendiamo un risultato qualsiasi e mi chiede dove si trova alla n meno 1 più 2 meno i alla n per n meno 1 chiaramente anche non ho scritto esattamente così ma basta che siano la stessa espressione quindi queste sono metà delle basi in realtà ci devo applicare ancora il periodo infatti c'è una parentesi aperta per cui ho le altre 2 alla n per 2 alla n meno 1 alla n più 8 più i alla n per n meno 1 e tutto questo io applico il periodo k volte il periodo lo scrivo così lo potevo anche scrivere fattorizzando 5 per 2 n più 1 questo qui è il corollario 2 a pagina 55 ora tutte le basi che terminano per 5 che hanno velocità di congruenza pari a n n arbitrario vale per qualsiasi valore di n purché sia maggiore o uguale di 2 altrimenti non esistono per ogni n maggiore o uguale di 2 diciamo elemento dei numeri naturali tolto lo 0 e 1 tutte le basi che finiscono per 5 sono fatte così per ogni valore della velocità di congruenza fissato pari a n ora la domanda ora vado a leggere i commenti la domanda è dove sta questo risultato dove è stato pubblicato dove lo troviamo no non è che devo smentirlo io cioè quando mi dicono una cosa del genere dicono questo risultato l'ha già ottenuto un altro non devo smentire io che un altro abbia ottenuto quel risultato chiunque lo dice deve mostrare qual è quel risultato e dove sta pubblicato e dove quell'altra persona ha ottenuto quel risultato prima non è che c'è molto altro da dire dove sta saluto ciao Francesco ciao lo vedi il link no non c'è nessun link prova a spezzarlo ma mettimi proprio il riferimento mettimi il titolo metti tranquillamente dove è stato postato no perché voglio capire fino a che punto il mio paper sia talmente illegibile agli occhi degli altri che quello che ho ottenuto gli altri non l'hanno capito perché qua o non è stato capito quello che ho fatto oppure stanno sputeratamente mentendo però dovrebbero anche averlo capito quindi sarebbe ancora più grave chi capisce che cos'è la velocità di congruenza di interazione la scambia per un'altra cosa volontariamente ce ne sono tante M67 mandamene una scegli questa formula dove la trovo da dove discende oppure ti chiedo mi puoi dire la formula che descrive la velocità di congruenza di tutte le basi che terminano per uno diciamo fissato un valore della velocità di congruenza arbitrario da uno in poi dimmi la formula che descrive tutte le basi alla velocità di congruenza diciamo aspettate fisso valore della velocità di congruenza e devo avere la formula che descrive il valore di tutte quali sono tutte le basi che terminano per uno caratterizzate da quella velocità di congruenza lì stanno in buon faccio confusione qual'è sta formula me la puoi dettare me la detti io la confronto con la mia e la troviamo e vediamo se però quella formula è pubblicata da qualcuno mi dà il riferimento altrimenti l'ha presa dal mio paper ce ne sono tanti sono risultati risaputi da anni ancora questa boiata oh guarda lo sapevano tutti tranne tutti i revisori che mi hanno accettato i due paper relativi dopo un anno di revisione me li hanno pubblicati come original research papers oh gli unici che non lo sapevano erano proprio gli esperti di teoria dei numeri che mi hanno ripreso i due paper guarda un po' che sfiga avvisali c'è pieno il web in inglese di quei risultati non hai capito niente guarda no ragazzi ho capito cosa ha fatto attenzione ragazzi leggete il commento prima che lo levi questo lo scrivono non ti voglio offendere ma allora leggo il commento sto calmo perché a quest'ora grido o faccio rumore mi scrive ma ce ne sono tante sono risultati risaputi da anni c'è pieno il web in inglese perché il mio paper è scritto in aramaico di quei risultati sulle ultime cifre della detrazione ma io non sto parlando delle ultime cifre della detrazione non ti so non ho letto anche io un sacco di quei lavori di quegli articoli ma sono cose da veramente da giochino di olimpiadi della matematica cioè non devo calcolare quali sono le ultime cifre di una certa detrazione con i numeri dentro io ti devo dire la formula che descrive quante sono le nuove cifre stabili che si aggiungono alla fine del numero scartando tutte le altre è una cosa completamente diversa è immensamente più potente e più complicata io non so quali sono le cifre cioè dalla forma della concorrenza voi non sapete quali sono le cifre numericamente sapete quante sono le nuove cifre stabili quante sono quello dice la formula della concorrenza è il numero di nuove cifre stabili non quali sono una cosa completamente diversa è come se io vi chiedessi quante facce ha questo cubo e voi mi rispondeste lo sappiamo tutti che questo è un cubo si sapeva già da un sacco di anni che il cubo di Rubik è un cubo a me ti ho chiesto quante facce ha si sa che è un cubo a se facce si ma dove lo trovo cioè è una cosa diversa ma forse ad esempio neanche rende no comunque è un troll dai un troll ok dai ha messo un link lo vado a cercare non vi posso condividere lo schermo perché sto con la webcam però potete farlo voi last digits of a tetration mathematics stack exchange quindi ok oh guarda ragazzi proprio ho cercato dappertutto per vent'anni non l'avrei citato ovviamente però non sono riuscito a trovare proprio esattamente il titolo del mio paper in sostanza vabbè dai vediamola un attimo ci divertiamo ok last digits of a tetration vediamo un po' eh l'articolo è del 2015 quindi comunque dopo il mio libro io già avevo pubblicato il libro leggiamo un attimo qui devo bloccare tutte queste cose ci metto un sacco aspettate un attimo devo bloccare un po' di roba confirmo allora l'articolo dice la domanda è stavo studiando le tetrazioni mio autore di potenza ho trovato un fatto ben noto le ultime k-1 cifre di la base 3 al tetratto k 3 alla 3 alla 3 rimangono costanti per un numero 3 alla a e non c'entra niente con quello che ho fatto tra l'altro ho dimostrato nel primo paper la formula veloce di congruenza per queste basi usando le primi tip roots quindi è una cosa molto più complicata perché è vero questa cosa il link mostra una dimostrazione per le ultime due cifre che cosa me ne faccio ma come posso gestire i casi più grandi per esempio come posso provare le ultime dieci cifre e non c'entra niente con quello che ho fatto allora la risposta è o almeno molto poco iniziamo con il primo esempio con il primo e va a studiarsi le congruenze con la funzione fi di eulero probabilmente quando anche lo so cosa stia facendo usando la notazione vabbè quindi che cosa avrebbe dimostrato alla fine noi abbiamo la domanda notiamo che fi alla t10 è uguale a 1 per t uguale 30 in generale t uguale 3 alla n e ci dà la tua equazione per k maggiore di 30 e tu puoi verificare che le prime che prima ragazzi non sto capendo cosa sta facendo ma non c'entra niente con la veloce di congruenza questo lui sta calcolando un certo numero di cifre non ti sta dicendo le nuove cifre stabili per ogni incremento unitario di iperesponente cosa c'entra tra l'altro lo sappiamo che per la base 3 la velocità di congruenza questa cosa l'ho dimostrata io nel paper quello precedente che la velocità di congruenza è 1 ma per dimostrarlo ho fatto una cosa complicatissima e sto usando anche un altro teorema pubblicato su Archive non è così questa è una cosa del tipo vuoi calcolare le ultime 30 cifre andiamo a vedere per quale valore sono stabili questo non è molto sofisticato ma probabilmente neanche corretto comunque vediamo un attimo ma noi possiamo ottenere lo stesso risultato di 1 se noi ripiazziamo fi con la funzione di Carmichael ma questa cosa la faccio nel libro questa cosa la faccio nel 2011 uso la funzione lambda di Carmichael ma stiamo scherzando le faccio anche vedere queste cose le ho fatte semmai posso dire io le ho fatte e me le hanno copiate ma proprio per dirne una il libro è pubblicato nel 2011 questo è del 2015 ma una cretinata non stiamo parlando di cose serie ecco qua teorema di Carmichael per dirne uno sicuramente detto da altre parti insomma e qui per esempio vi calcolo le ultime 200 cifre a mano nella base del mio anno di nascita questo non è sofisticato comunque non la conoscevo questa discussione ma mi sembra banalissima ma noi possiamo ripiazzare fi e metterci lambda che è diciamo è un sottomultiplo è uguale o è più piccola è una come si può dire un sottomultiplo di fi lambda di Carmichael rispetto alla fi di Eulero e notiamo che è lambda la diecella il che implica direttamente la tua equazione e implica che la tua asserzione la tua affermazione sarà sempre sarà sempre vera se rimpiazzi 3 con ogni altro intero coprimo a 10 allora intanto una dimostrazione completa a prescindere perché non è vera per i numeri pari ma non solo questa cosa che sta facendo lui da quello che ho capito perché se volete ve l'andate a leggere meglio con quel titolo last digits o attedration non vi sta assolutamente dicendo quante sono le nuove cifre e come si sviluppa la veloce di congruenza per tutte le basi dice ferma una base soltanto e vado a vedere il valore per cui sono stabili sono congruenti e congruenti a quel valore lì quindi alle ultime 30 cifre insomma ma sta cosa non ti dice neanche il valore asintotico qual è potrebbero essercene tante all'inizio e poi alla fine potrebbe valere 2,0 2,0 2,0 cioè che vale sempre uno che è periodico e costante con la funzione dove sta scritto cioè ma di che cosa stiamo parlando è una cosa completamente diversa rivediamola un attimo per curiosità perché ora sto in live sono tutte cose tipo le ultime tot cifre di n alla n le vedete sono tutte quante le stesse cioè sostanzialmente cercano le cifre non cercano il numero di nuove cifre stabili che si aggiungono infatti non si parla di velocità di congruenza che avrei già definito allora per ogni k a è congruo vediamo un attimo la domanda qual era le ultime k-1 cifre di 3 alla k uguale rimangono costanti per tutti i numeri per tutte le dedazioni ok lui sta parlando delle ultime k-1 cifre con a maggiore di k ok dovrei cliccare sul link non ci clicco perché questo è vero cioè in realtà sostanzialmente sta chiedendo una cosa che avevo già per scontato perché si stabilizzano delle cifre alla fine del numero cioè se vado abbastanza in alto perché ho quelle cifre stabili e stabili perché ci sono le congruenze il problema non è che ci siano le cifre stabili il problema è quante se ne generano ogni incremento unitario e l'iperesponente per ogni incremento ognuno non il totale la media per ognuno e perché quel valore è sempre uguale da un certo punto in poi prima varie e poi sempre uguale ora sta prendendo delle basi semplici ma se io vi dico provate a rimpiazzare quella dimostrazione e fatelo con la base 807 vedete che cosa esce fuori provate a fare i primi 5-6 passaggi vedete che cosa esce fuori vedete che il valore non è stabile cambia vi posso dare basi anche molto più grandi che fanno quella cosa per molto più tempo potete prendere anche 143 alla 625 mi sembra o alla 125 vedete che cosa succede vedete se potete dimostrarlo in questa maniera probabilmente infatti vi dico che probabilmente è neanche vera sta cosa però per quelle basi veramente per la base 3 viene perché a veloce di congruenza si stabilizza già al secondo passaggio ma può essere trattata per casi più grandi certamente sì vabbè comunque la domanda non era quella cioè non ha fatto la domanda sulla veloce di congruenza ha chiesto le ultime cifre non quante nuove cifre si stabilizzano a ogni passaggio però vediamo la dimostrazione magari è utile se è una dimostrazione seria neanche ve lo so dire e riuscimamente posso provare comunque il mio risultato è completamente inedito tant'è vero che lui tira fuori una regola che ha sotto la funzione fi di eulero e quindi ragazzi per farvi capire perché sta cosa è completamente diversa e anche volendo inutile lui dà come soluzione la funzione fi o lambda come base cioè tu devi conoscere il valore della funzione fi o lambda che è un'altra funzione che chiaramente hanno descritto eulero e carmichael e dici elevo quella funzione a questo esponente e poi vado a vedere la congruenza ma quella funzione lì che cosa c'entra cioè da dove è ottenuta io vi ho dato proprio la valutazione della funzione e di come si evolve quindi in ogni caso non sarebbero la stessa cosa quindi ho sbagliato io e hanno sbagliato loro perché non è che ti ho dato la funzione fi o una sua derivazione io ho dato proprio un'altra regola comunque no questo è un modo per abbassare l'esponente cioè sostanzialmente deriva dall'idea che ci sono dei cicli che si ripetono sempre e quindi tu vai sul ciclo minimo che puoi trovare con la funzione fi o meglio con la funzione lambda che è ancora più piccolo e quindi vai a vedere che c'è una periodicità su quel ciclo lì interno che ti dà le cifre che si stabilizzano ma che è una cosa che facevo già qua cioè voi andate vi prendete questo libro è gratuitamente scaricabile vedete che questa cosa la facevo già qua la facevo già nel 2011 ovviamente ci ho messo un po' per trovare la formula velocea di congruenza quindi no non è la stessa cosa mi spiace buco nell'acqua cosa ne pensi delle olimpiadi è una domanda non ce l'ho presente ah sì quella mi sa che l'avevo pure citata è una tetrazione piccola ti ricorda un episodio di Galois bugiardiscio non so di chi come si fa a dire che non c'entra niente M67 ti faccio una domanda semplice se tu con quella formula vediamo ragazzi dimostro matematicamente scientificamente che M67 o non ha capito quello che ho fatto o mente io allora la domanda è questa visto che loro affermano che quella formula funziona per qualsiasi base che è coprima 10 io ti posso dire prendiamo le basi che terminano per 1 puoi prendere per 3 o per 7 scegli tu un valore che ti pare le basi che terminano per 3 allora prendiamo le basi abbiamo fatto con la 3 una base e ti dico allora per tutte le basi che terminano per 3 dovrebbe essere facile mi puoi dire la formula che definisce il numero di nuove cifre che si aggiungono alle ultime cifre stabili già dal passaggio precedente per ogni incremento unitario dell'iperesponente applicato a quella base generica che finisce per 3 devi valere per tutte le basi che finiscono per 3 ora fissato il valore della velocità di congruenza quindi il numero di nuove cifre tu prendi una formula e dici quella formula descrive tutte le basi che terminano per 3 caratterizzate esattamente da quel valore della velocità di congruenza me la puoi scrivere? loro hanno dato quella formula lì la base è 3 dicono vale per tutte le basi coprime a 10 quindi non avrai nessun problema a dirmi questa formula e come si deriva da lì giusto? perché io quello ho fatto se tu mi puoi dire questa formula e come si deriva verifichiamo se la mia è uguale alla loro o la loro è uguale alla mia molto semplice lo sai fare? oppure non c'è in quella formula quello che ti sto chiedendo perché non c'entra niente? domanda è la stessa cosa bene M67 ti ho chiesto la formula allora dimmi la stessa cosa la scriviamo alla lavagna e poi vediamo se sono uguali figurati se dall'America alla Germania hanno copiato Marco ah 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 perché non pubblico su journal vabbè comunque basta ragazzi veramente no no vabbè io ho fatto una domanda semplice quindi ho detto ok questa è la formula per le basi che terminano per 5 però 5 è coprimo a 10 io l'ho fatto per tutte le basi li dicono solo per le basi perché poi devi applicare quel teorema e se è costretto non puoi fare altrimenti ad avere il fatto come condizione necessaria il fatto che ci deve essere la congruenza non devono essere non devono avere fattori primi comuni 10 quindi non devono essere né multipli di 2 né numeri pari né non devono essere numeri pari né numeri che finiscono per 5 in sostanza quindi puoi prendere 1, 3, 5, 6 o 9 come cifra finale io ti dico mi puoi dire la formula per tutte le basi che terminano per 1 per esempio o per 3 o per 7 o per 9 fissi la velocità di congruenza velocità di congruenza 13 quali sono tutte le basi che hanno velocità di congruenza 13 e terminano per 3 quella formula me lo può dire dimmi qual è scrivimela pubblica una foto metti Marco ripago la formula e vediamo io l'ho pubblicata facciamo l'uguale vediamo se la formula è la stessa perché io ti do la formula corretta io sono uguale o no il valore della velocità di congruenza questa attenzione è quello asintotico già solo il fatto che ti dia un solo valore quella formula già ti dimostra che è sbagliato perché se tu vuoi calcolare le ultime tot cifre con esattezza e c'è un valore che oscilla all'inizio vale delle cose e poi vale un altro valore e si stabilizza non puoi dare una formula unica perché se ti do un valore troppo piccolo quel valore non va bene se ti do uno troppo grande dovresti fare la media come fai? cioè non è possibile la media può essere un valore decimale addirittura quindi di sicuro quella formula non può descrivere la velocità di congruenza generale qualcosa di scrivere quella iniziale quella finale quella finale è la mia formula quella iniziale non avrebbe senso basterebbe calcolarsi per il valore singolo lì per esponere non ha senso quello che è scritto se uno studente di matematica grazie ha iniziato a leggere stimi tanto grazie quindi vabbè la live è un po' lunga comunque quella cosa lì ha a che vedere con le ultime cifre della detrazione non ha a che vedere con la velocità di congruenza o almeno con la velocità di congruenza sintotica come l'ho definita io quindi magari da lì potresti poi dire allora se trovo il valore della velocità di congruenza iniziale è una formula sintotica che lo definisce combino quello con la mia formula sintotica ti posso dare il valore esatto mentre questo ti dà soltanto una condizione sufficiente ma non necessaria cioè qua ti dice che c'è quella cosa che ti stabilizza le ultime tot cifre non si sa né se sono esattamente quelle tot cifre né si sa dove devi andare e quante sono le nuove cifre cioè potrei dirti quella formula magari mi restituisce almeno le ultime 30 cifre poniamo se metto dentro il valore relativo allora potrebbero essere 33 cifre ma lì me ne dà 30 però poniamo che se sono andato ad altezza 15 ok potrebbero aggiungersi 2 potrebbe aggiungersi vediamo se sono andato ad altezza 33 è quello che dicono loro 32 allora ho 34 quella 34 allora potrebbe aggiungersi una cifra una cifra una cifra una cifra potrebbe anche aggiungersi una cifra tre cifre zero cifre due cifre zero cifre e la media è una cifra cioè tu lì stai tagliando e non sai come si sta comportando la velocità di congruenza e mezzo chi ti dice che è un valore costante tu sta scritto che è costante e che è costante per tutte quelle basi perché il valore varia quindi ti posso trovare infinite basi con velocità di congruenza arbitraria che termina con ogni numero che decidi tu quindi basi che terminano per tre con velocità di congruenza 40 io ti posso trovare infinite la mia formula ti dà infinite e ti dà tutte e sole quelle basi là però se tu mi dici qua il valore è unitario ti è andata bene se tu assumi il valore unitario allora dimostri che la velocità di congruenza è almeno uno cioè qui puoi dire ok allora in media la velocità di congruenza è almeno uno se vai abbastanza in alto e quindi qual è qual è sto valore ok almeno uno io ti posso dire che lo potevamo scoprire subito semplicemente vedendo le congruenze modulo 25 se la base è modulo 25 con uno di quei valori la velocità di congruenza è uno altrimenti è maggiore uguale di uno è di due cioè è molto più potente il mio risultato non devo fare conti lo faccio a mente non devo sapere né quanto va la funzione di Fidi Aulero né l'ambo di Carbone niente semplicemente guardo le congruenze è abbastanza comodo vabbè è scappato M67 io ho chiesto M67 prima che faccia giorno visto che ormai è notte per esempio la formula come sono fatte tutte e sole le basi che terminano per 3 che abbiano velocità di congruenza n cioè vi puoi esplicitare questo insieme come io ho fatto per le basi che terminano per 5 e poi lo faccio però per esempio abbiamo parlato delle basi che terminano per 3 perché abbiamo preso 3 come base vediamo la stessa cosa 3 è coprimo a 10 in un caso particolare neanche le avresti fatte tutte bene qual è la formula? vediamo per esempio questo risultato che è scritto sul link che mi hanno mandato possiamo rimpiazzare Fidi e otteniamo possiamo notare che loro dicono semplicemente che per esempio qui sono partiti dalla base 3 dicono questa cosa però vale per tutte le basi coprime a 10 quindi che la funzione lambda di Carmichael elevato all'L10 ora andiamo a vedere L10 moltiplicato 10 alla 10 che è già abbastanza grande è uguale a 1 per L10 uguale a 12 sta cosa in generale per esempio non è vera io ti posso prendere come base non è vera se ho delle basi generiche se delle basi coprime a 10 può essere vera quindi io ti posso prendere per esempio la base 2 o la base 22 che chiaramente però non sono non sono coprime a 10 e in quel caso sta cosa è falsa dovresti avere almeno L13 sia per 2 per 22 eccetera sono infinite perché hanno il primo passaggio che è congruo a 4 il secondo passaggio che è congruo a 6 quindi hai la base 1 2 hai prima la base che è congruo a 2 modulo 10 poi diventa 4 poi diventa 6 poi si stabilizza su 6 ma su 3 passaggi quindi se io prendo l'altezza 12 qui riuscirei a beccare soltanto una cifra in meno mi beccherei qua sono 10 cifre poniamo mi beccherei 9 poi 10 alla 10 vuol dire 10 miliardi sostanzialmente quindi vai a vedere qual è il valore diciamo relativo e calcoli il fatto che ci sono almeno 10 cifre uguali almeno 10 cifre potrebbero essere tranquillamente di più ti prendo dei valori per esempio se volete ve ne prendo qualcuno dai provate a fare sta cosa calcolando esattamente la veloce di congruenza prendendo come base una base che termina per 3 volete 4193 volete a farlo con la base 4193 vedete cosa riesce fuori vi dico soltanto che la relativa soluzione dell'anello comodativo è interi 10 adici h-r quindi meno 2 alla non so se c'è il meno 2 alla 5 alla n meno 5 alla 2 alla n non so se è col meno avanti il fatto sta che qui c'è uno 0 quindi se andate a calcolare questa cosa così vi viene fuori lo stesso valore sia che immetta questa base sia che immetta 0 questa cosa qui ma hanno due cifre 4 e 5 cifre quindi in teoria la veloce di congruenza di questa base è superiore al suo numero di cifre se vuoi fare sta cosa ti esce fuori un valore che è sicuramente in eccesso cioè becchi troppe cifre non è becchi esattamente il numero giusto quindi sbaglieresti però la veloce di congruenza neanche quello medio azzeccheresti no non ha senso sono due articoli mandamene uno io ti ho chiesto la formula mi puoi dire sta formula guarda non voglio scherzare è m67 mi dici la formula per tutte e sole le basi che terminano per tre che abbiamo la veloce di congruenza n per n qualsiasi da uno in poi mi dici la formula generica c'è l'articolo ok copia la formula e mandamela la puoi pubblicare puoi farci un video faccio un video e la pubblichi tra l'altro io non conosco il tedesco quindi sinceramente non avrei neanche idea di come andare a leggerlo un articolo in tedesco la matematica in genere si fa in inglese comunque tu savi già la formula della veloce di congruenza di trazione non me l'hai mai detta è incredibile ho passato dieci anni a farci live su youtube e tu avvi la formula non me l'hai mai detta wow tra l'altro quest'articolo è del 2017 quindi pure recente è un articolo 100 pagine secondo te dovrei leggermi una cosa di 100 pagine in tedesco che non è manco un paper di matematica in cui secondo te ci sarebbe la formula della veloce di congruenza di trazione ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando ti dico soltanto per farti rendere conto di quanto è assurdo quello che hai detto che se tu vai su Wolfram provi a calcolarti una detrazione qualsiasi prendi una base qualsiasi 12 20 2 quello che ti pare vai a calcolare la torre di potenze al tab 10 11 unità non te la sai calcolare modulo 10 alla 20 non te la sai calcolare con la mia formula la calcolaresti immediatamente immediatamente abbasseresti di grado Wolfram lo calcola un decimo di secondo come mai Wolfram non ha implementato la formula è nota è una cosa utile probabilmente la stanno cercando da un sacco di tempo come mai non ce l'hanno vabbè ragazzi comunque il mio paper è pubblicato se tu pensi che quel paper abbia dei risultati già pubblicati da altri scrivici un paper e mostri che quei risultati possono essere facilmente derivati da un altro risultato da questa cosa che hai mai scritto non si vince niente non si vince proprio niente tra l'altro parliamo soltanto di base coprime a 10 ma non soltanto ma in ogni caso qui non stiamo minimamente andando a calcolare proprio la congruenza tanto che la formula è talmente complicata che non c'è modo di scriverla in maniera compatta qui si cerca soltanto di capire come funzionano le congruenze abbassando diciamo l'esponente quindi arrivando sull'altezza minima che ti garantisce quella quella congruenza e sfruttando la funzione lambda la funzione lambda è una cosa a parte cioè dovresti utilizzare la funzione di Carmichael metterla dentro a quel carderone e vedere come si collega con la mia formula la velocità di congruenza andando passando dalle basi dalle cifre al loro numero vabbè comunque ciao Smartis sta cosa non c'entra niente